Ricapitolando dall'ultima cosa che è successa dall'avventura precedente, da quella che si è fatto nel discorso, è che praticamente siete nella stanza, nella plancia di comando della Cronus e è partita Madar, si è accesa, quindi è tornata operativa, quando tutti quanti vi ricordate avete attivato, cos'erano qui, le sonde di prossimità, no? E avete visto che c'era un'altra nave in avvicinamento, automaticamente Madar ha mandato un messaggio vocale, quindi non più scritto soltanto nei terminali, che tutti avete udito, e il messaggio diceva che la criostasi era stata interrotta, quindi le capsule dell'ipersonno si stavano aprendo e nel giro di qualche minuto, insomma, anche qualcosina in più, perché dopo 70 anni ci vuole un attimino di più, l'equipaggio della della Cronus si stava risvegliando, e qui dove ci siamo fermati la volta scorsa. Partendo da questo momento qui, vedete che da, perlomeno avvertite, ve ne rendete conto che, per quanto avete le tute, quindi il rumore è molto attutito, però deve essere un rumore talmente forte che attira la vostra attenzione, e vedete che dai bocchettoni dell'aria, in alto, praticamente negli angoli, nei vari angoli della plancia di comando, stanno iniziando a buttare fuori aria. Sentite proprio il rumore forte dell'aria che viene pompata dai motori, dai generatori della nave, e vedete che anche un pochino di luci della della Cronus si iniziano ad accendere. Ora, senza farvi fare un tiro e niente del genere, sia Manu, come ti chiamavi, Rai, sia Rai che Davis, principalmente quindi il meccanico e il pilota, quelli che siete un pochino più avvezzi a queste cose, vi rendete subito conto che i sistemi vitali stanno più o meno entrando in funzione, tornando in funzione, però, e un pochino si iniziano ad accendere le luci, quindi potete tranquillamente, nelle zone meno buie, non accendere manco la torcia sulla tuta. Quindi, forse, da quello poi dovete fare voi, dovete dirmi voi cosa fate, forse nel giro di qualche minuto l'aria tornerà a essere respirabile, anche perché guardando i contatori delle vostre tute vi può mancare al massimo mezz'ora di autonomia, però non c'è abbastanza energia per riattivare tutti quanti i sistemi della Cronus e per metterle in moto, per farla muovere. Diciamo che quel poco che si è attivato, forse, un generatore su tre, su tre o quattro, quanti ne può avere, si è riattivato, quindi il supporto vitale è tornato online, però tutto il resto lo vedete ancora abbastanza disattivato. Ok. Se mi sposto sempre con il rilevatore vedo qualcosa. Spostati proprio così anch'io vedo dove sta andando, proprio a mappa me ne rendo conto meglio. Tipo metto qua verso la porta e... E punti il junction. Yes. Puntando da quella parte lì te l'ho detto, non ti faccio fare i tiri perché è inutile, tanto dove lo punti se c'è un movimento lo vedi, puntandolo di là ti guardi un pochino intorno, insomma fai una carrellata a sinistra, a destra, così te l'ho detto può arrivare al massimo un range di 40 metri, non di più, non sono ancora quelli spettacolari dei marine coloniali, però non c'è nessun blip, quindi niente che si sta avvicinando. Quella cosa che avevi captato decine di minuti fa, almeno 10-15 minuti fa, è scomparsa. Io provo a controllare sul computer di Bordos, ah scusa. No, un attimo. Ok ragazzi, qui sembra tutto tranquillo, non c'è niente in giro. Io se volete dare un occhio, datelo, intanto sto qui alla porta, vi controllo i corridoi. Fatemi sapere. Vai, vai. Io controllo sul computer di Bordos, se riesco. Sì. Se vedo dal sistema di telecamera interna della nave, faccio una carrellata a vedere le varie stanze, se ci sono sopravvissuti, se c'è qualcosa di interessante. E controllo lo stato anche della nave per quanto riguarda il supporto vitale, in che stato di avanzamento è il ripristino. Ok, fammi un tiro di T6 Davis. Aspetta che ti guardo un attimino la scheda. Allora, T6 Davis, fammi un tiro di Heavy Machinery, però ti do un bonus di più uno, perché comunque ora iniziate un pochino a capire che i sistemi sono simili alla vostra e soprattutto c'è un po' più di luce, via. Ok. Quindi... Quattro? Quanto non esistirà, mi sembra, sì? Sì, sì, sì. Vale, il primo tiro della serata. Praticamente cerchi di dare un po' un'occhiata per vedere se tutto quanto è a posto. Lo sai, cioè, te ne rendi conto te stesso che le informazioni che hai tenuto fuori sono poche, però sei abbastanza sicuro che tutto sia regolare, insomma, che non ci siano danni strutturali o cose del genere. Poi vi hai chiesto riguardo... Scusa, l'equipaggio? Sul ripristino del supporto vitale, quindi se è possibile magari togliersi il casco eventualmente, e se trovo gente, cioè, guardando nel sistema di telecamere, probabilmente, all'interno, provo a vedere se trovo superstiti all'interno delle stanze, o, non so, qualcosa di interessante, insomma, faccio una screllata a guardare le varie telecamere. Allora, da quel pochissimo che riesci a capire, vedi che praticamente le capsule dell'ipersonno si sono riaperte e lì sembra esserci gente ancora in vita, anche perché vedi tracciate vitali sullo schermo, ma quello anche senza un tiro lo potrebbe vedere chiunque. Mentre invece, per il fatto del supporto vitale, no, non ha informazioni adeguate a capire se realmente è donato in funzione e tutto, però, insomma, anche col casco, che, per farti un esempio, non senti nemmeno il bip bip di Cham sul coso, sull'elevatore, io prima ve l'ho fatto sentire il suono e tutto quanto, però Cham se ne è reso conto proprio guardandolo, capito? E poi comunque se ne rende conto, anche perché gli vibra quando ce l'hai in mano, insomma, ti dà, ti richiama l'attenzione, però te il bip non lo sentivi, mentre invece sto rumore dell'aria che è tornata in funzione, lo sentite anche con le tute, quindi pensa al casino che fa togliendosele, capito? Chiaro. E pensi che se butta un po' d'aria, magari ci potrebbe essere un po' di diossido nell'aria e cose del genere, però, insomma, pensi che l'ossigeno ci dovrebbe essere, però la prova è soltanto una. Ok. Intanto guardo un attimino, voi fate, intanto guardo un attimino io una cosa. Beh, ragazzi, bisogna andare dall'equipaggio, bisogna dargli una mano. E ovviamente è appena possibile bisogna interrogarli per sapere cosa dovremmo affrontare, voi che non sa ne pensate. Sembra un'ottima opzione. Sì, anche se questo è, anche se tutto l'impianto si è riattivato affatto casino, dovremmo stare attenti, probabilmente qualsiasi cosa sia qua, ora sa che c'è, che ci siamo. E soprattutto non è umana, ragazzi. Vedi che ovviamente quando parlo così sono sempre il capitano. Non è umana, cioè cosa vorrebbe dire, signor Wilson? Secondo me, sono passati troppi, troppi anni da quando la nave si è persa. Quindi se fosse un essere umano dovremmo trovarci un vecchietto col bastone e soprattutto senza cibo, né aria, né energia, mi dovete spiegare cosa... È in carenza di ossigeno, signor Wilson, ma vedo che dall'assoluto è tutto a posto. Cosa dovrebbe essere? Cioè, abbiamo esplorato tutto lo spazio conosciuto e voi della Weyland aiutani soprattutto? Cioè, ah, vi ripeto, fuori gioco, nessuno sa degli alieni, non ne avete mai incontrato uno. Mai. Che cosa dovrebbe essere? Mi dica lei. Cioè, una creatura con quattro zampe, non lo so, e magari corne e artigli? Ma di cosa stiamo parlando, signor Wilson? Torniamo a fare il nostro lavoro. Ha perfettamente ragione, potrebbe essere un droide impazzito. Un droide impazzito. Purtroppo è già successo. Sì, sì, scusate, mi sono ancora scioccato per la vista prima orrenda del morto. Se ha bisogno di un attimo per riflettere, penso che questo qui sia il momento migliore. Se no, consiglierei di metterci in marcia e di andare a vedere. Se non erro, sono sul ponte A. Quindi dovremmo risalire e andiamo a vedere nelle camere di Cryostasi cosa è successo. Se avete qualche domanda o qualcosa da dire, anzi, vediamo l'autonomia, facciamo un check. Io ho ancora 30 minuti, voi? Mmh, giù di lì, anch'io. Sì, sì, siete più o meno tutti lì. Forse l'unico è... Eh, è lui che ne ha consumato di più. Va bene, la tuta del signor Wilson è in difetto. Penso che andando ora verso la nostra Montero la potremo ricaricare, ma non è questo il momento per fare qualcosa del genere. Quindi... No, 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 no. A costo, respiro l'aria viziata. Tanto potete benissimo sentire l'aria che sta riempiendo piano piano e sostituendo l'aria viziata. Vedete che mentre parla lui sta continuando a parlare. Non ci fate nemmeno caso, tanto è il casino dell'aria e tutto. Vedete il capitano... Miller si chiamava, sì. Vedete il capitano Miller che si leva l'elmo e si leva il casco direttamente. Quindi se c'è da fare una prova per vedere se c'è ossigeno, l'ha già fatto lei. Vedete che respira a pieni polmoni. La vedete contorgersi un attimino per tossire. Come se fosse effettivamente dell'aria viziata, insomma, da particolarmente tanti anni in questa nave. Si batte un pugno sul petto e poi praticamente, vedete, vi fa un cenno. si avvicina il casco alla bocca senza rimetterselo per avvicinarsi al microfono e sentite la sua voce un po' a distanza. Tipo a me sentite la mia ora di merda che vi dice... Fammi l'esempio che vi dice... potete levarvi i caschi l'aria è respirabile. Ricevuto. Mi sfiro il casco. Lei vedete che prende il suo casco e l'appoggia sulla plancia di comando e dice questo lo lascerò qui nel caso lo verremo a riprendere. Non mi fido molto. Non è che rischiamo qualche malattia strana con quest'aria. Si avvicina sempre al coso. Dobbiamo provare ad andare verso i laboratori o il medlab e vedere se c'è qualche... la possibilità di ricaricare il bombo di ossigeno. Nel frattempo vedete che Milet si è avvicinato sempre portando il setor casco per parlarvi. Si è avvicinato alla console dei comandi e dice qui da quello che vedo c'è un po' troppo di ossido nell'aria però per quanto riguarda il resto no, la CO2 è perfetta. Luce verde funziona. Potete toglierveli. Però se ve li volete tenere teneteli. Solo che... forse ancora c'è da un po' entrare in circolo. Questi motori non ci mettono un minuto per riavviarsi di tutto. Poi dopo 70 anni di... ci sembra questa bloccata. Signori le chiacchiere stanno a zero. Si sta risvegliando l'equipaggio. Secondo me dobbiamo con o senza i caschi andare da loro e rimanere uniti. Questa è la mia opinione. Questa è quella è anche la mia opinione. Rai quanto ci mette a rimettersi in moto un generatore di una nave come questa qui? Visti i tempi in cui è stato fermo potrebbe volerci un po'. Ok quindi l'aria secondo te potrebbe essere viziata ma comunque respirabile o è meglio rimettersi i caschi? Non si sa cosa è stato presente in questi 70 anni in questa nave. Potrebbero esserci delle malattie. Va bene fate come volete io comunque mi tengo mi teme lo lascio qui l'elmo per me non c'è problema si respira bene andiamo a vedere anche perché respirare quest'aria finta dalle nostre tute non ho più voglia andiamo su al piano di sopra ok faccio strada io ragazzi si fai strada allora ci muoviamo per ora non c'è rumore non c'è movimento non c'è nulla e si torna su direttamente vabbè mettiamoci qui accanto e siamo praticamente nella Crio 1 mentre passiamo c'è qualche osservando il nome delle stanze che stanze passiamo? Allora aspetta aspetta perché se vuoi fare qualcosa la torniamo un attimino giù allora mentre passi noi si va verso Stairwell questa qui no? quindi passando da qui vedi la Junction che è praticamente una scala sotto c'è la Stairwell che è un'altra scala perché ovviamente c'ha più scale che portano i vari ponti una sopra una sotto e poi i vestibule che sono praticamente le cose i camerini i camerini sì però i camerini con l'equipaggiamento anche soprattutto tutte tipo le nostre per uscire anche nello spazio e più ovviamente gli armadietti di tutto l'equipaggio mentre camminate visto che me l'ha chiesto il capitano fa che perché ti sei fermato Cham? stai osservando qualcosa? no non c'è nessun movimento però no volevo vedere un attimo le stanze in giro magari se c'è qualcosa possiamo trovare di utile concordo ma se io capitano l'equipaggio è il nostro obiettivo primario sì ma se dovessimo anche solo fare qualche incontro con quella cosa se questa fosse una democrazia il capitano sarebbe inutile quindi per favore shut up e fate parlare il capitano potremmo passare dal med lab e prendere comunque qualcosa che potrebbe servire per l'equipaggio che si sta svegliando il med lab dov'è? ah guarda il cartello fa sì forse forse fra tutte le cose sarebbe quella migliore da fare io direi che che Davis ha ragione va bene questo è l'ordine procediamo però una cosa veloce facciamo un giro nel med lab massimo massimo due o tre minuti e poi andiamo verso le stanze del criosonno andiamo perfetto che sia veloce dai facci strada allora leggo un attimino vi dico tanto c'è tutto scritto anche vista poi mi tocca tapparla è tutto nascosto tutto censurato sì sì la copro la leggo un attimino allora in questa stanza vedete che intanto non è ben messa comunque c'è aspetta è rimasto cliccato il personaggio mio vedete che non è ben messa come se non tanto il fatto che sia logora o comunque rovinata dal tempo e tutto quanto sembra che qua dentro ci sia stata proprio una lotta vera e propria quindi vedete che è tutto quanto in disordine magari che ne so anche carrelli con sopravisturi e cose del genere buttati per terra sieri flaconcini becchi bunsen cose del genere insomma tutti rotti al suolo quindi ci sono anche detriti insomma al suolo pezzi di vetri e cose del genere e sembra che ci sia stato un vero e proprio combattimento vedete che ci sono tre madpod che praticamente sono come i letti che avete visto della come si chiamava della prometheus se ve lo ricordate il lettino operatorio quello lì che ci si butta dentro la donna e ce ne sono tre di cui due anche quelli sembrano rotti messi male addirittura c'è del sangue all'interno e tutto e uno per quanto è spento e non in funzione invece sembra ancora operativo quello che vi da subito all'occhio appena entrate nella stanza è che l'area sembra molto più viziata e questo ve lo dice Miller che tossisce quando entra l'area sembra molto 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 più viziata rispetto al ponte di comando e altre cose ah ora il casino non c'è più quindi si vede che era soltanto un fatto perché stavano ripartendo i motori e vedete che al suolo a terra a parte c'è quasi una nube di vapore strana che vi arriva fino fate conto fino più o meno alla caviglia per farvi capire c'è una specie di patina che sembra quasi una nebbiolina però come se fosse un po' oleosa cioè addirittura se ci passate un dito vi si attacca è una sostanza strana oleosa che fa una specie di patina come guazza e nebbia al primo mattino e vedete che praticamente sparsi ovunque sia al suolo ma soprattutto negli angoli in una parte precisa della stanza però bene o male su tutta l'atterizzatura che avete intorno ci sono delle specie di uova nere grandi grandi quanto un pugno esagerando alcune più piccole alcune più grandi però quella più grande non supera le dimensioni di una mezza mano di un pugno chiuso proprio e vedete che sono sparse un po' ovunque al suolo ma che cazzo è questa roba vedete Miller che punta la luce è il capitano forse la mia supposizione delle cose aliene non è così stupida come lei pensava e forse se questa nave avesse preso delle uova da un altro pianeta bisogna scoprire sui registri al più presto lo scopo della della missione per quello dicevo che bisogna parlare immediatamente con l'equipaggio parlo però parlo con l'intonazione tutta infervorata quindi immaginatevelo io penso sono strane queste cose cioè oh mio dio tutte queste uova non le toccare sciocco no 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 non mi avvicino non si preoccupi non si preoccupi signor Wilson io penso che sia meglio abbandonare la stanza subito e non toccare assolutamente niente ottima idea vai chiam facci strada le criostasi sì 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 ok mi riguarda un attacco mi riguarda sempre un po' in giro poi sì sì no per ora non c'è al solito non c'è movimento quindi prendiamo i personaggi almeno che non vogliate fare niente in questa stanza e si torna su non c'è niente negli armadietti eh sì no 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 allora devi fare il dado osservazione eh no allora la roba ci potrebbe anche essere no quella almeno che non è rotta in terra però l'unica cosa se vi volete muovere dentro questa stanza c'è da fare un tiro di movimento perché rischi veramente di pestare qualcosa e rompere qualche uovo cioè poi te l'ho detto c'è questa patina che non ti permette nemmeno di vedere tanto bene capito sembra quasi che li schermi li protegga alla vista quindi chi è che vuole fare esploratore no Davis dici cosa è l'unico laboratorio o comunque zona dove potrei trovare farmaci o cose che potrebbero essere utili per l'equipaggio io Medlab l'ho letto soltanto qui e mi sembra anche dal computer di Madard aver visto soltanto questo quindi presumo di sì potremmo tornare dopo nel caso in cui sovrisse qualcosa io dico che stavo perdendo troppo tempo e sì nel caso torneremo dopo andiamo su parole sante se non c'è altro si va no no per me si può andare e mettiamoci qui accanto al crio comunque beh no non rilevi niente con l'elevatore di movimento quindi non ci sono blip né cose del genere arrivando si entra dentro la c- dove è andato? si è nascosto se l'è mangiato ok ci sono no mi sa che è allargato un pochettino e è andato sopra beh allora arrivando nella camera di criostasi vedete che c'è scritto Crio 1 poi ci sono due stanze accanto sono in tutto tre camere di criostasi anche perché una nave del genere scientifica che ve l'ho detto è una volta e mezza la vostra Montero fate conto che può avere anche fino ad un equipaggio dai 30 a 40 individui ora sicuramente non è piano carico perché vedete anche i nomi segnati al lato della porta per far presente insomma magari tutta quanta una camera di criostasi dedicata agli ufficiali di bordo un'altra agli ufficiali scientifici e uno e quello è il terzo tipo che ne so al resto dell'equipaggio tecnici e cose del genere e vedete che i nomi non sono tantissimi quindi sicuramente la Cronus non era non era piano carico come equipaggio un attimino solo ok ok e niente arrivati in questa stanza e la vedete tranquillamente messa bene sembra qui assolutamente tutta un'altra cosa rispetto al al laboratorio al med lab che avete visto prima ma anche per il fatto che quando siete arrivati la porta era sigillata quindi questa porta qui era chiusa dall'interno ed è stata riaperta adesso soltanto perché Madar l'ha riattivata però questa porta se Madar fosse stata ancora disattivata e non l'avesse riaperta era impossibile aprirla anche col tasterino fuori quindi sembra che quelli che l'hanno chiusa l'hanno chiusa dall'interno e che sia stata sigillata per almeno tanti anni forse non tutti però perlomeno tanti anni si aspetta un attimo è un po' di suspense che fai non ce la metti Nastero una domanda noi li vediamo da fuori gli elettrocardiogrammi per vedere se sono vivi o non sappiamo chi è vivo e chi è vivo no 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 da fuori ci sono soltanto le targhette scritte è proprio attaccate a un cartello ha tipo una bulletin board dovete entrare per forza quindi non sappiamo niente noi no 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 però no guardando da fuori vedete che i letti sono attivi quello si mentre gli altri invece della testanza sono tutte spente ci sarà un terminale magari di vicino si 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 assolutamente si vedete che c'è un grande terminale con dei cavi collegati e questi cavi vanno ognuno a un lettino separato quindi di tutti di tutte le camere del cresonno che c'è in questa stanza qui ce ne saranno una quindicina e vedete che di queste 15 ora vi dico dov'è eccolo qui di queste 15 soltanto 5 sono occupate quindi tutte le altre no non c'è nessuna all'interno però non vedete né rotte né sangue la stanza è perfetta 5 sono occupate e ovviamente si sono riattivate e si sono aperte ok quindi le trovate già aperte solo che l'equipaggio sta ancora dormendo non si sono risvegliati anche se si sono aperte ma tutte e tre le stanze soppievo il vaggio o solo una scusa che non ho capito se vuoi andare a dare un'occhiata vai comunque dalla prima occhiata che hai visto allora no scusa pensavo che no 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 sembra sembrerebbe solo questa sembrerebbe perfetto grazie mille sembra che siano tutti quanti vivi per favore jam da una controllata che sistemi vitali siano tutti quanti perfetti anche perché penso di sì perché le capsule sono aperte e la prestazione quindi ok mi tiene un attimo il rilevatore tutto un occhio il fucile ce l'aveva a davis sì 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 conferma ok vediamo qui per sicurezza sicuramente il capitano mi darà ragione mettiti vicino il meccanicuccio e tieni puntato il fucile per non avere soppre sì signore di tirare su qualcosa per vedere i sistemi oppure il lego fammi un tiro su su heavy machinery però con un più uno perché anche lì sembra è molto simile alla vostra quindi cambia poco ok quindi bello 9 di 6 se vediamo fa nemmeno un coso no dai un lupone guarda lì praticamente dal tiro che hai fatto vedi diobono anche se l'equipaggio c'è un emorroid l'hai visto tu vorrei farvi notare che il risultato comunque è 42 vedi che uno c'ha anche la rega di arculo quindi proprio hai visto tutto diobono gli ha fatto la scansione uno ha visto anche c'ha un dente d'oro in bocca tutto tutto hai visto tutto che bravo meccano no no lui è ragazziniere scusa io faccio 3-1 vedi comunque è tutto a posto vedi che è tutto quanto a posto regolare attivo operativo e quindi problemi non ce n'è nemmeno uno puoi andare e puoi andare tranquillissimo ok allora qua questo sì questo sì questo sì questo sì guardo capitano sono tutti a posto perfetti non c'hanno problemi non è né qualche problema di intoppo durante il criosonno cioè è però qualcosa qualcosa c'è di intoppo perché non si stanno risvegliando allora facciamo una cosa fermi un attimo vedete che il capitano si avvicina guarda tutti i lettini uno a uno si avvicina ne guarda uno ne guarda un altro poi a un certo punto punta il dito su vedete la scritta Daniel Cooper sotto quel lettino lì e all'interno di questo cioè all'interno scusate sono aperti lo potreste anche toccare vedete una persona che avrà sui sulla sessantina d'anni insomma vedete i capelli bianchi la barba ha una bella barba ha dei baffi vistosi ed abbastanza magro comunque come come fisionomia la classica classico volto insomma da studioso cose del genere e sul lettino c'è scritto Daniel Cooper il capitano si gira e ti fa chiam per favore prova a mandarmi a alzarmi direttamente del 50% l'impulso a questa camera di criostasi ok alza alza leggermente di più al 60% 60% ma non è un po' pericoloso andare oltre forse vedete che e rispetta il tuo capitano vedete che quello che c'è scritto che ora guardando meglio c'è scritto dottor Cooper sul lettino e te vabbè dal terminale visto che hai visto tutto riconosce che è l'ufficiale scientifico della Kronos vedete che fa uno scatto si alza a sedere che se il letto fosse stato chiuso sarebbe subito spaccato la testa si alza praticamente a sedere a tutti i tubi attaccati addosso a ventosa come c'è uno marine coloniale se vi ricordate tutti questi tubi attaccati sopra che sono attaccati a loro volta al lettino e vedete che si tira su come se si fosse appena risvegliato da un brusco sonno e da un incubo più che altro urla lancia un grido per quanto la voce non vi dico gracchiante a livelli assurdi perché ovviamente è tanto che dorme si è appena risvegliato però comunque un urlo che vuoi anche per questa voce sepolcrale vi mette abbastanza paura e vi ricama l'attenzione perché sembra quasi una cosa sovrannaturale e oltretutto venendo su in quella maniera lì dopo aver tirato l'urlo si guarda intorno con occhi proprio sbarrati e gli viene subito la nausea e vi ricorda un po' Wilson nell'avventura scorsa che praticamente vomita e mezzo dentro il letto e mezzo fuori dal dal cryopod dalla camera dell'ipersonno però vedete che si sta reggendo ora da un lato ed è praticamente piegato verso l'esterno con la testa di fuori che sta vomitando domanda chi di voi ancora ha il casco per respirare? io io quindi tutti for che me e Wilson yes ok voi che ce l'avete l'autonomia siamo scesi fate conto un quarto d'ora e finisce ok quindi non l'avete lo tolgo e disattivo il supporto vitale in modo da avere un po' di ossigeno nel caso lo servisse ok e voi lo tenete o no? fa passare la puzza di vomito e poi lo tolgo anch'io ok anche io come fare ok niente vedete che si sveglia e fa questa vomitata insomma è lì fermo il capitano fa signor Wilson vado a fargli qualche domanda e veda dove sono i suoi alieni io intanto do una controllata nel corridoio dammi il rilevatore di movimento chi c'è Laura? Rai Rai dammelo e do una controllata al corridoio nel caso arrivasse qualcosa Wilson il ponte a lei ricevuto capitano vedrò quello che riesco a scoprire dal mio collega anzi scusate il mio subalterno l'altri stanno sempre dormendo eh per ora sembrano forse qualcuno vedete che c'è una donna all'interno con dei capelli biondi vedete che fa un leggero movimento si stanno risvegliando però insomma ci vuole ancora del tempo qualche minuto ancora capitano la contatto per radio quando si riprende voi andate tranquilli se succede qualcosa mi sentirete strillare vedete che vai vai speriamo di no perché già con questo questo urlo cazzo potrebbe aver già tirato qualcosa accetto la la bugia ma ci credo poco vedete che questo presunto dottor cooper tocca qualcosa come se fosse dietro uno schienale un cuscino qualcosa tira fuori degli occhiali per la prima volta dopo due vite tre vite se le rimette si guarda intorno e vi vede con occhi ancora più sbarrati perché non vi riconosce né niente e con voce tremolante vi dice voi chi siete ehi dottore le domande le faccio io rappresento la corporazione ora ci mettiamo seduti su quel bel tavolino e mi fa un bel rapportino cosa ne dici la la compagnia certo non faccia lo sciocco e da quanto tempo siete arrivati a bordo della Cronus ma io io parlo così però vedete che è molto molto agitato è veramente le domande le faccio io si calmi e si metta seduto ribadisco sono la corporazione come la devo chiamare signore signore che non ha un cognome come stanno i miei compagni vedi che si guarda intorno e guarda gli altiletti ve lo deve dire lei non è un dottore perdonatemi che anno siamo ma fai io non vedete che la divisa che ha lui addosso è molto più diversa e antica rispetto alla vostra è come vedere una divisa veramente del passato che usavano i vostri nonni per lavorare fa non riconosco le vostre divise però una cosa è sicura qui tutti quanti lavoravamo per la Weyland yutani ok anzi ah aspetta aspetta scusate eh bravo eh no errore errore mio fa qui perché su vede una mostrina qualcosa perché avete scritto Weyland yutani cioè qualcosa quanto tempo è passato sono passati circa 70 anni e ora la nostra corporazione se ne è fusa con un'altra ma non è questo l'importante siamo nella stessa parte e io le ripeto per l'ultima volta con estrema gentilezza che sono ribadisco passate tanti 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 anni lei ora mette il sale nella zucca perché è stato sempre pagato mi dice come stanno i suoi colleghi e poi piano piano mi racconta cosa è successo in questa nave sono stato chiaro o io lo devo ripetere no 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 è stato chiarissimo però aspetta no 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 scusatemi qui c'è qualcosa che non può tornare noi il messaggio di soccorso l'abbiamo mandato qualche giorno fa non è possibile non è matematicamente impossibile che siano passati 70 anni non è possibile io non ci voglio credere lei è proprio strambo lei allora non sa dove è stato a dormire pensa che il letto siamo su cappuccetto rosso eh no vabbè 70 anni ma una volta come 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 arruolavano le persone si vedevano che non c'erano persone come me dica io lo dica a lei capitano per cortesia vedi che il capitano non ti sta ti senti parlare nella radio e ti dice il capitano Wilson si sono appena risvegliati dopo un suono di 70 anni non la citare cerca di parlare tranquillamente se no vengo e la gestisco io cioè cosa vuoi che si spara in bocca questo no no assolutamente capitano mi scusi cercherò di essere più diplomatico ma come lo sa lei questo non è il mio proprio il mio lavoro essere diplomatico comunque vedrò di mettermi seduto e fai un bel capo vedi che nel frattempo non è mai stato dalla sua parte signor Wilson come scusa non ho capito effettivamente il tatto non è mai stato dalla sua parte ecco appunto qualcuno che mi capisce vedete che nel frattempo dell'ultimo lettino quello più vicino alla macchina insomma è il primo che si dovrebbe essere aperto in sequenza vedete una donna fammi vedere un attimino sì una donna con dei capelli tagliati corti corti tipo Vasquez per farvi capire colorito comunque carnagione scura come quella di Wilson e che addosso ha una tuta inconfondibile che la riconoscete subito perché chiunque la riconoscerebbe anche una persona di cent'anni fa è una tuta di marine coloniali quindi lo identifica comunque come un marine a bordo vedete che ha un bel fisico insomma beh per essere una donna è veramente robusta si vede che deve essere comunque un ufficiale o qualcosa del genere si tira su dal lettino si mette una mano davanti alla bocca per evitare di vomitare a sua volta però a differenza di del dottor Cooper sembra molto più a suo agio ecco anche da un sonno prolungato così per quanto si è svegliato in ritardo vedete che si guarda intorno come se non vi avesse visto si inizia a staccare le ventose che ha sul petto fa per scendere mette una gamba fuori quando si accorge di voi e vi fa e voi chi cazzo siete? guarda sul computer l'ho letto il nome mentre scendeva si si no no i nomi li hai letti tutti e andava visto che ha fatto un tiro dalla madonna te li sei anche memorizzati si chiamava sergente valeri rid sergente sergente salve siamo siamo arrivati ora siamo arrivati ora sulla nav abbiamo sentito il mi ha richiesto d'aiuto si il messaggio di soccorso che è stato inviato direttamente dal nostro capitano si esatto ma siamo arrivati ora non riconosco le vostre le vostre divise addosso chi siete? scusi lei è un sergente io sono un emissario della nostra corporazione come stavo dicendo innanzitutto al suo collega dottore noi siamo venuti a aiutarvi siamo dalla stessa parte però non ci dovete attaccare perché noi siamo venuti a aiutarvi se avete tanti problemi noi possiamo anche andarcene e non conviene a nessuno dei due vedete che si alza dal letto e a questo punto ve l'ho detto oltre al fisico vedete anche che è alta quasi due metri è veramente una bella donnona grossa proprio militare nel senso vedete che ha anche un fisio scolpito e delle spalle particolarmente larghe potrebbe tranquillamente essere scambiata per un uomo si avvicina tipo ti dà un colpo di petto a te Wilson e ti fa noi noi chi? lavoriamo per la compagnia? voi a quanto vedo lavorate per la compagnia io qui sono il sergente Ridd e sono incaricata dal corpo dei marine coloniali di difendere questa nave quindi è il mio impegno difenderla non vostro io sono contenta e veramente soddisfatta che il messaggio sia arrivato ma prima cerchiamo di capire chi siete realmente voi e qual è la vostra missione parlate allora scusate non ci possiamo mettere su quel bel tavolino con quelle belle sedie mia cara valchiria prenderci qualcosa così lei si schiarisce le idee abbassiamo i toni perché non mi sembra il caso di alzare le mani forse sarà meglio che lei sappia sia al corrente di cosa è successo a bordo di questa nave te sei nella stanza Davis si 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 vedi che ti punta ti guarda e fa ehi bella rivolgendosi a te con tono proprio rozzo così tutto quanto fa quell'arma ridammela mi appartiene non lo fare non lo fare ora è nostra insegno di per dimostrare amicizia eh si questa questa probabilmente sarà sarà meglio usata dalle vostre mani noi siamo qui solo per aiutare abbiamo risposto al messaggio alla richiesta di aiuto qui dammi dammi quell'arma tra l'altro non si impugna nemmeno così come la stai tenendo si si fa un sorrisetto ma se la sua arma io scuoto la testa e faccio spallucce gliela passi non è quei baggio del genere si 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 vedi che praticamente la prende guarda che si accarica è un fucile a pompa però a differenza di quelli classici colpo colpo in canna caricati 1 a 1 questo qui è proprio un caricatore capito sembra quasi più un fucile da salto per farti capire tipo una 12 si esatto bravo c'è proprio un caricatore suo vedete che lo prende tira fuori il caricatore lo guarda lo rimette a posto e fa perfetto poi lo tiene con la mano destra e se la appoggia sulla spalla io direi che è il momento di risvegliare tutto il resto e poi penso che il dottor cooper vi spiegherà tutto quello che c'è da sapere l'unica cosa che il mio amico il signor wilson anzi si è dimenticato di dirle sergente è che sono passati 70 anni da quando siete risvegliati vedete vedete cooper che intanto prova a rimetterci in piedi però è zitto e li ha appoggiato al muro sono passati quanto 70 anni 70 anni intanto ce la metto guarda per farvi se no a parte non ci si sta tutti però fate conto che lui è appoggiato al muro e il sergente insomma qui nella stanza con voi ora tutti ci si entra sono passati 70 anni da quando abbiamo mandato la richiesta di soccorso esatto cosa leggo su qui sul tuo giacchettino scusami un attimo Wayland Yutani la seconda chi sarebbe col passare di tempo si sono fosse due cooperazioni semplice e conciso ok quindi il salvataggio comunque sarà sempre riguarderà sempre la compagnia immagino affermativo finalmente vedo una persona competente in mezzo a una marea di no no ma questo 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 è buffo però signor Wilson ha detto lei forse lavora per la compagnia da quello che mi è sembrato di capire parla sempre il sergente è responsabile vedi che ti torreggia sopra e fa no però è buffa la situazione cazzo è veramente buffa perché voi ci mandate in pasta alle belve e poi dopo ci venite anche a salvare mi spieghi signor Wilson prima che le apra un foro in testa dov'è lo scherzo quale la richiesta la richiesta di soccorso è stata mandata al corpo dei marine coloniali non alla compagnia perché siete arrivati voi no vi state sbagliando sergente lei ora si è risvegliata è sotto shock deve essere successo qualcosa di brutto ora lei come le ho detto gentilmente si siede fa il marine evita gli attacchi di panico perché da una valchiria come lei mi aspetto il meglio del meglio come si chiama la vostra nave con che nave siete arrivati USS Montero USS Montero 70 anni dopo avete un capitano qualcuno con cui possiamo parlare non mi sembra che il capitano sia questo vedete che il capitano entra nella stanza fa capire che ha sentito tutta quanta la discussione si avvicina si guarda un pochino intorno nel frattempo si stanno risvegliando anche i lati nel lettino li vedete che si sono anzi si sono già risvegliati solo che stanno zitti perché cercano di capire la situazione di vedere un po' come si evolve però ora sono tutti quanti i svegli di cui il dottor Cooper fuori Reed il sergente uguale gli altri tre invece sono ancora dentro il lettino e vi stanno osservando il sergente comunque ha contatto fisico con Wilson fai conto fra lui e Wilson ci sono un metro e mezzo a malapena e vedi che se ho abbassato la crista è abbastanza affurente negli occhi ok comunque mi metto vicino Wilson un po' più avanti tipo a modo di fargli un po' da scudo se dovesse un po' schizzare il cervello al sergente eh ma è fanosa mettiti al posto di di mano allora spostati spostati così almeno si capisce meglio vai ok e quindi lui qua giù nel muro invece e il capitano rientrando invece qui vedete che il capitano prova a parlarci fa la prego sergente di mantenere la calma vabbè non sto a fare il dialogo fra i due comunque vedi che cerca di farla calmare e il sergente Reed non sembra cioè da quello che potete vedere sembra un bravo marine non sembra una testa di cazzo o una persona impazzita anzi forse il dottor Cooper sembra fuori di testa però più che altro sembra che non possa vedere il corporativo cioè si sente preso per il culo capito come dire ci avete mandato laggiù e poi dopo 70 anni così da nulla riapparite per venire a salvare cioè dov'è dov'è l'inculata capito dov'è la cosa che non mi torna e Miller invece le sta cercando di far capire che Wilson da quello che sentite è soltanto è parte della compagnia quindi è un supervisore mandato in missione ovviamente per prendere date e tutto quanto ma è un supervisore quindi è più una specie di ospite a bordo della missione sulla Montero e cerca di carmarla però vedi che non c'è cazzi anzi si sta innervosendo sempre di più la vedete sempre più nervosa io mi metto vicino visto che il sergente tanto non è controllabile mi metto vicino al dottore e sottovoce e gli faccio delle domande e avvicinati mettiti su così mi ricordo anche che sei vicino al dottore quando allora fammi vedere un attimino che non mi ricordo anche io tutti i nomi sennò davvero forse era questo qui quando vedete che un personaggio particolarmente vedete fisicamente può essere tipo il dottor cooper magro così ha dei capelli tagliati corti neri e dei baffetti vedete un pochino a sparviere una faccia un po' da ebetino ma più che altro per il fatto delle persone prolungate che vi potete immaginare come stia fisicamente una persona del genere e si alza dal suo letto vedete che vi viene incontro cercando ovviamente più che altro attentone di muoversi un po' tanto che si dimentica di staccarsi qualche ventosa che è attaccata addosso e se la stacca per inerzia muovendosi e dopo aver tirato una specie di mezzo urlo di dolore si avvicina allarga le mani si mette tipo a mezzo alla stanza allarga le mani verso tutti e fa calmi 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 per favore calmi fermi tutti sono il dottor Flynn ok vedete che lui dalla tuta che porta addosso è un medico laddove Cooper è lo scienziato è l'ufficiale scientifico questo è proprio un medico quindi lo riconoscete dalla tuta che ha addosso e si mette tipo fate conto qui si mette qui e vi fa calmi calmi datevi una calmata per favore ok siete alla missione di soccorso siete venuti qui per salvarci per favore diamoci una calmata a tutti quanti sergente Reed per favore abbassi quell'arma smetta di puntarla e cerchiamo di parlare ok siamo tranquilli stiamo rilassati e cerchiamo di sopravvivere tutti insieme sembra un po' il mediatore per quello che vedete finalmente qualcuno ha ragione ok finalmente direi quindi lei forse il dottore sa cosa sta succedendo il perché se la vostra richiesta di soccorso come dice il dottor Cooper è stata mandata qualche giorno fa a fine lo dici si ok i sistemi sono andati in blocco e sono passati 70 anni ho sentito non me lo ripetete per favore perché rischio veramente di vomitare e a casa ad attendermi avevo figli e una moglie molto giovane per favore cambiamo discorso so che è uno scherzo dai state scherzando non ci posso credere ne parleremo a bordo comunque dottore qui nessuno sta scherzando qui nessuno sta giocando ci sono dei cadaveri sono passati 70 anni se non mi credete non mi interessa più di tanto dovete uscire dallo shock lei è il più professionale di tutti qui dentro lo vedo dagli occhi per favore faccia mente locale risponda gentilmente alle nostre domande va bene faccia un bel respirone penso che il dottor cooper sia quello che ha più risposte fra tutti noi quindi fatele a lui le domande allora per prima cosa cos'è successo perché vedo il sergente provato dottore ci faccio un riassunto il sergente non è provato è incazzato come un toro ti risponde il sergente allora vedi che il dottor cooper prova a parlare piano piano si mette gli occhiali se li sistema un po' sul volto e vi dice noi siamo l'equipaggio della Kronos una nave il cui equipaggio era di ben 25 individui fede che tira sospiri di sollevo perché cerca di calmarsi ma vedete che è fuori di testa forse fra tutti loro è quello più fuori di testa di tutti ne devono aver passato di cotte e di crude e dice siamo stati inviati dalla compagnia Weyland sul pianeta LV 1113 noi siamo una nave non siamo una nave cargo né una nave da guerra per quanto a bordo avevamo anche dei marin coloniali e siamo stati mandati in una missione per esplorare un pianeta il pianeta LV 1113 su questo pianeta siamo stati incaricati dalla compagnia Weyland di raccogliere alcune reliquie abbandonate dentro quello che pareva essere forse lo scheletro di un tempio qualcosa comunque raffigurabile per quanto poco ne abbiamo capito tutti quanti raffigurabile in una specie di tempio maia come quelli che avevamo sulla terra qualcosa del genere non sappiamo chi l'abbia costruito non sappiamo come sia finito laggiù non sappiamo nemmeno quali creature entità esseri viventi ne abbiamo vissuto su quel pianeta la nostra missione era di trovare alcune precise reliquie e di riportarle a bordo della Kronos e tanto abbiamo fatto e quello è stato l'inizio della fine e vedete che inizia a tremare veramente forte tanto che si siede al suolo e appoggia la schiena al muro vedete che inizia a piangere inizia a piangere perché è veramente teso e fa quello che abbiamo visto voi non ci potreste mai credere non basterebbe una vita intera per crederci non vorrei allarmare va beh quanto tempo ci avete messo da quando siete partiti con la missione da arrivare alla meta partendo dal gateway sulla terra ci abbiamo messo ci abbiamo messo tre mesi tre mesi di viaggio la maggior parte ovviamente è passata nell'ipersonno siamo andate sul quel pianeta abbiamo recuperato le reliquie le abbiamo tutte quante portate a bordo della nave e poi cosa sono le reliquie? sono sono delle specie di vasi di contenitori neri delle specie di urne funerarie cose del genere grandi grandi quanto un braccio non molto pesanti e all'interno di questi di questi vasi neri c'era della della sostanza scura oleosa vedete che interviene il dottor Flynn e vi dice quello era il draconis aspettate un attimo ok quello era era il draconis 26 l'ho analizzato in laboratorio ed è un potentissimo siero ha delle capacità veramente formidabili ed è in grado di guarire molte malattie che sulla terra sono ancora inguaribili quella era la nostra missione no la nostra missione risponde Cooper particolarmente incazzato perché vedete lo scienziato col medico era di prendere queste reliquie e riportarle a al gateway sulla terra ok per farle esaminare direttamente dalla Wayland dagli scienziati della Wayland e io ero l'incaricato di portargli le sane e salve ovviamente in conservazione è una classica missione signori cos'è che è andato storto ma più di 70 anni fa la Wayland sapeva dove trovare queste cose si la Wayland sapeva dove trovare queste cose e non c'è stato dato nessun tipo di informazione che non fosse quella per cui eravamo pagati penso proprio come voi eh beh purtroppo ragazzi noi siamo pagati non per sapere ma per eseguire vedete che il sergente prende parole e fa appunto e la vostra missione qual è? che cosa vi hanno detto? che vi ha detto la Wayland Yutani che vi ha detto? capitano parli lei per cortesia si spiega qual è stata la direttiva la missione e tutto quanto però anche voi non è che abbiate tante informazioni più di loro quindi il sergente risponde da questo se ne vince che le informazioni che abbiamo tra tutti sono veramente poche a un certo punto vedete che una quarta persona si alza dal suo letto la metto tipo qui fra un po' non ci si entra più e praticamente vedete che dalla tuta che porta addosso lui è evidentemente un ufficiale e anche di alto rango vedete che si presenta e fa vi ho ascoltato nella vostra conversazione sono il secondo ufficiale della Cronus Jones ok salve piacere di conoscervi e piacere di conoscerla Capitano Miller si salutano con i soliti convenevoli quando l'ultima persona quella bionda che vi ho detto all'inizio siete tutti in piedi lei rimane praticamente seduta dentro il suo letto di criostasi vedete che fra l'unica fra tutto l'equipaggio della Cronus tranquilla come se non fosse successo nulla cioè come fosse successo un cazzo e tutti i problemi sono stati a bordo vi guarda con questi occhi praticamente glaciali la vedete proprio impassibile e sulla sua pettorina vedete che quello si riconosce subito a occhio c'ha scritto Wayland a differenza della vostra Wayland Yutani e da come è vestita un po' sembra quasi Wilson capito qualcosa comunque un corporativo o qualcosa di simile vedete che vedete che vi guarda tutti quanti fa qui stiamo parlando stiamo parlando da anche troppo tempo e quelle cose sono ancora a giro per la nave non è vero dottor Cooper non glielo ha ancora spiegato cosa questa donna mi piace ragazzi e fa micamenti con gli occhi vedi che praticamente ti guarda fa spalluccio e poi si ce l'ha dall'altra parte come se non ti stesse considerando andrà meglio per un'altra volta signor Wills quindi tu non sapevi proprio niente di questa cosa si effettivamente è una cosa che avrei voluto anche sapere io appena siamo entrati c'è stato subito un movimento nella nave e se voi vi siete risvegliati ora c'è qualcosa che è ancora qui ma cosa cosa Cooper spiegaci abbiamo portato a bordo questi questi vasi questi reliqui insomma quello che era ed è stato tirato fuori questo liquido oleoso e vi dico il film ripete il 26 draconi si quel cazzo di 26 draconi so come l'hai sintetizzato e il nome che gli hai dato un nome vale un altro comunque questa sostanza era duplice da una parte oleosa ed è finita a contatto con le membrane e le mucose di esseri umani ospiti che hanno iniziato a trasformarsi a mutarsi e sono diventati qualcosa che è indescrivibile sono diventati delle specie di zombie di creature famelli che si sono avventate sul resto dell'equipaggio mentre invece nella nave si sono iniziate a formare col tempo forse portate fuori sempre da queste piccole reliquie delle specie di uova nere piccole grandi quanto vedete che tira su una mano e fa un pugno chiuso e alcune di queste si sono rotte e praticamente questa sostanza a livello ai riforme a differenza della sostanza liquida si è sparsa completamente per tutto il sistema di areazione della nave è stata inalata da parte dell'equipaggio che a loro volta sono mutati però c'è qualcosa di strano ci sono varie forme di vita ci sono varie che iniziano a tremare vedete che iniziano a piangere praticamente ci sono varie forme di vita su questa nave ce ne sono alcune che sono indescrivibili hanno la testa allungata hanno dei denti molto pronunciati lunghi hanno degli artigli alle mani e non hanno più la forma di essere umani e quelli un tempo erano membri del nostro equipaggio ne abbiamo trovato uno all'ingresso esatto e meno male che l'alienio non esisteva no ragazzi quello che avete trovato all'entrata spiega Reed penso che fosse uno dei miei ora si è calmata un po' il sergente era un marine uno dei miei il migliore noi abbiamo respirato l'aria però in questa nave siamo fottuti no 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 si mette in mezzo Flynn e fa stiamo calmi stiamo calmi allora non è ancora appurato che respirando quest'aria ma se ci siamo rinchiusi dice il il secondo ufficiale dentro queste istanze appunto per non respirare quell'aria non è ancora stato provato io direi di fare una cosa forse il più alto in grado a questo punto che è il capitano Miller e il capitano Miller risponde di sì fa io se il capitano Miller è il secondo ufficiale va bene che aspetta riguarda un attimino i nomi a Jones al signor Jones direi di andare nel med lab e di prendere io ho preparato dentro un armadietto dei flaconcini con dentro il 26 draconis io penso che nel caso qualcuno di noi dovesse iniziare ad avere dei rigurgiti dovesse iniziare a sentire dolore al petto comunque alla schiena o soprattutto alla testa dovremo inalarci quel siero ed è stato già provato su qualcuno di noi che inalandoci quel siero l'avete visto l'ha visto lei glielo deve dire secondo ufficiale Jones signore l'ha visto lei che si stava sentendo male e inalandosi no inalandosi scusate sparandosela in vena la cosa si è calmata e vedo che ora sta particolarmente bene quindi non ho dati sicuri ma posso quasi affermare che il draconis funzioni e tenga veramente ci salvi da quest'aria infetta che tutti quanti stiamo respirando però dobbiamo andare nel laboratorio dobbiamo fare con cautela però c'è ancora quella cosa che gira un po' perplesso sono ancora vedete che Reed carica il fucile a pompa e fa quella cosa quelle cose e io non vorrei che voi rientrando in questa nave dopo 70 anni o quante sono voi le aveste risvegliate ah scusi sergente noi volevamo solo venire con le migliori intenzioni e se ce ne andassimo da questa nave e se ce ne andassimo e se ce ne andassimo sulla montagna non è nostra direttiva non fate scherzi equipaggio vedete che Miller noi dobbiamo scoprire e portare via questa ma fottuta nave a casa vero capitano no signor eh sì Miller è lei no signor Wilson lei sta dicendo un mare di cazzate ti dice il vostro capitano Miller noi dobbiamo prendere e salvare l'equipaggio li abbiamo trovati gli unici sopravvissuti sono questi li portiamo a bordo della Montero e scappiamo io non voglio sapere niente di questa nave dobbiamo trainare la nave dobbiamo rilegga l'obiettivo di missione per cortesia vedi che il sergente Reed prende il fucile a pompa non te lo punta ma vedi che aspetta poco o niente e fa no signor Wayland degli utani lei non ha capito un cazzo lei voi ora siete la missione di salvataggio voi ci portate a bordo della Montero e la distruggiamo questa fottuta Cronus non va azzardate non è vostra probabilità non potete farlo e che me lo ordina lei e ti punta il fucile te lo punta proprio mi metto nel mezzo ok ti sei nel mezzo quindi te lo punta te praticamente all'altezza della testa fa levati di mezzo stronzetto ti faccio saltare alla testa e poi la faccio saltare a lui capitano non mi fido di questo essere qui armato l'avevo detto io devo non dargli il fucile l'avevo detto signor Wilson vai 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 te signor Wilson si calmi capito qui io guardando estrogente proteggerò il mio equipaggio e i miei compagni di viaggio perché qui siamo tutti dalla stessa parte e ci sta succedendo un po' di troppe un po' troppe cose voi ci state dicendo delle cose noi vi abbiamo detto le cose e in tutto questo marasma probabilmente ci ha creato un sacco di confusione quindi sergente abbassi quel fucile perché non siamo noi i suoi obiettivi l'obiettivo è di sicuro scortarvi al di fuori di qui ma il nostro corporativo qui il signor Wilson probabilmente non so che obiettivi di missione abbia letto però ci sa che ci sia confuso con l'aria di qui dentro girandomi e ammiccando un attimino quindi se il gente si calmi abbassi il fucile che se no qui veramente c'è un macello vedete che quella bionda assoluta sul lettino sempre seruta si volta vi guarda tutti quanti fa comunque mi presento mi chiamo lori clayton sono un corporativo che lavora per la wayland però a quanto vedo ora non è più la wayland si chiama wayland iutani io e il signor Wilson lavoriamo dalla stessa parte e si conferma anch'io quello che ha detto il signor Wilson noi dobbiamo rimanere qui a bordo prendere più informazioni possibili e poi dopo salvare l'equipaggio quindi le direi sergente Reed che le ricordo che il corpo dei marine coloniali è sotto la wayland iutani insomma quello che è oggi e siete pagati da loro vedi che il sergente Reed non aspettavate si incazzano a morire li va a sorghiglia e fa capite che la litigata parte per il fatto che secondo Clayton la wayland iutani comanda i marine coloniali però voi sapete bene che i marine coloniali sono un corpo a parte e non sono comandati da nessuno se non dalle Nazioni Unite sulla Terra quindi non è vero un cazzo quello che ha detto Clayton però c'è una litigata a un certo punto vedete che il capitano Miller spazia in tita fa adesso mi sono veramente stufata adesso basta e le decisioni qui a bordo le prenderò io vedete che fa un passo avanti per avvicinarsi verso il sergente Reed che si gira e torreggia sopra siete tutti più bassi ma comunque vedete Miller che gli arriva almenta a malapena quando a un certo punto ho sentito una botta disumana che non vi sareste mai accorti e praticamente un un coperchio insomma dell'aria delle condutture del sistema di reazione praticamente si spacca viene quasi squarciato cade al suolo e vedete qualcosa di una velocità fulminea tanto che ora mi fate un tiro qualcosa di una velocità fulminea che scende giù fatemi un tiro ovviamente l'italiani pc non lo fa fare di osservare osservare con un meno uno quindi osservare con un meno uno e io c'ho qui bello bello andiamo da merda è incredibile ragazzi io ci avevo un dado fatto uno allora chi manca gabbro no ho tirato ho tirato dove sei? eh l'ho visto ah si non ti avevo visto ok si l'avete fatti tutti allora gli unici che se ne rendano conto voi non l'avete vista sta cosa talmente è stata fulminea vedete cioè si vedete che qualcosa ora vi spiego afferra il capitano Miller comunque Davis e Rai sono gli unici che riuscite a vedere una creatura lunga più o meno come della grandezza di un uomo quindi potrebbe essere sul metro e settanta metro e settanta metro e settantacinque con un corpo quasi come posso dire quasi lucente nel senso che lucido lucido bravo non lucente ecco lucido che vedete la luce si riflette sopra questo corpo qui ed è una massa in forme di colore nero e alle forme di potrebbe essere quasi un essere umano però come quello che avete visto laggiù steso quando siete andati dal ponte ha le braccia particolarmente allungate le gambe particolarmente allungate vedete però che questa a differenza dell'altro ha artigli belli lunghi sia sulle mani che sulle gambe insomma quelle che sembrano essere mani e gambe e vedete che ha una lunga coda una coda con cui praticamente come quasi una scimmia si arregge direttamente facendo forza per quanto la coda è esile però ha una forza talmente tale nella coda che si arregge nel sistema di reazione prende il capitano Miller e lo porta via lo porta via nei condotti è un'azione talmente veloce che ripeto riescano a vedere soltanto loro voi vedete il capitano Miller urlare e lo vedete scomparire dietro condotti così cioè da un secondo e mezzo un urlo portate via nei condotti e la sentite urlare fino a che la voce poi non scompare invece Manu Kyla Rai e Gabro Lea Davis avete visto questa creatura qui ha testa allungata e vedete che ha la testa allungata molto più di un umano soprattutto la calotta dietro è molto allungata ma che cazzo ovviamente ovviamente ha visto qualcosa ovviamente sono tutti in subbuglia e sono tutti che cazzo no vedete che chi si nasconde dietro un lettino chi si butta dietro un armadio vedete che il sergente riddo ovviamente fa allontanatevi allontanatevi dal condotto e punta il fucile a pompa io mi butto sotto a un letto per chi ascolta io sono lì mi sono ficcato sotto tremante con le mani insolate io tiro fuori la chiave inglese mi metto lì vicino vedi che punta il fucile a pompa e qualcuno di voi ha un rilevatore di movimento? il capitano ecco portate non nemmeno portate via ai 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 moriremo tutti oddio è la stessa creatura è la stessa creatura che ha ucciso il capitano è la stessa è la stessa vedete il dottor cooper che si butta a terra con le mani portate alla fronte inizia a tremare ma vedete che tu a questo punto è uscita dal letto anche quell'altra anche la bionda che fino a quel momento lì non diceva nulla ragazzi dobbiamo risolvere il capitano il capitano però dalla mappa merda e ora? fate voi ora che non c'è più il capitano c'avete carta bianca ragazzi ragazzi io tutti i testimoni quante volte ho detto a questo idiotaco davanti chi sa che mi ha dato problemi no il soldatino doveva fare il figo con il fucile quell'altro oddio 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 l'ufficiale scientifico dei miei calzari e il dottore ebbete con le sue medicine è un secondo ufficiale che no ma rimaniamo in questa stanza vi dice il sergente senza perdere nemmeno un secondo di puntare il fucile a pompa verso il condotto no ma restiamo in questa stanza mentre parliamo e aspettiamo che torni magari e ne prenda un altro abbiamo bisogno di un vice capitano ragazzi il più alto in seconda è particolarmente scosso però sembra di avere un po' ancora di energia per provare a dare qualche ordine fa sì tremando con la voce no no non mi piace lui lui non mi piace è scappato qui aveva preso un vaccino quello che diavolo è no no io mi fido della mia collega facciamo comandare la mia collega che è quella che ha i nervi più soldi di tutti io direi che il comando la prendiamo noi della Weyland iutani quindi io dice Clayton del signor Cooper e ovviamente verremo anche coadjuvati dalla parte del sergente Reed come alto grado dei marini coloniali se siamo tutti d'accordo io direi di cercare di andare a prendere i campioni dove l'aveva lasciati dottor Cooper vedi che parla e farà nell'ultimo ponte tutti quanti nella steve erano tutti là no dice il dottor Flynn dobbiamo passare anche per forza lo sapete ce l'ha richiesto la compagnia dobbiamo andare a prendere anche i campioni del 26 Draconis dal Medlab ok dice Clayton prendendo queste cose le porteremo tutti quanti a bordo della Montero e partiremo avete domande? nessuna muoviamo il culo ok chi fa l'apripista? guarda un attimo non c'è un'armeria in questa nave il sergente deve fare l'apripista è quella più esperta si 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 c'è un'armeria cioè più che altro non è un'armeria perché è una nave scientifica però sono gli alloggi dei marine coloniali ci sono si potremmo andare a rifornirci lì prima si ottima idea ci dovrebbero essere ancora delle armi dice il sergente Reed possiamo andare a vedere penso che sia la cosa migliore in assoluto però vedi che interviene il secondo ufficiale lì Jones dice si però la vostra nave funziona? si è operativa? no no si o no? noi non ce ne andiamo di qui no no volevo soltanto allora se la vostra nave è operativa andremo con quella se no dobbiamo scendere a riattivare i reattori della Kronos possiamo usarla per andarcene prendiamo la roba e ci togliamo il ritorno anche perché se no se stiamo continuiamo a stare in questa stanza più che altro in questa nave signori io voglio parlare un attimo con la mia collega posso? e prego signor Wilson mi vorrei appartare ma c'è poco da appartarsi sì comunque va bene comunque dobbiamo muoversi facciamo la voce bassa se lei cosa ne pensa dobbiamo portare come ordinato dalla nostra compagnia ah un punto questa nave bisogna rimorchia mettetevi un punto tutti è andata a due quello verde di panico giusto e cosa le dici la compagnia è imperativo che dobbiamo rimorchiare questa nave lei sa benissimo anche se è passati 70 anni cosa succederà se noi torniamo senza ha un modo per convincere la ciurma a darci una mano lei può darmi a parte mi fido ma può darmi prova di quello che sta dicendo che la compagnia vuole la Kronos al gateway sta sì sta sulla nostra madre della nostra nave ok ci potremo collegare con la nostra e se sarà veritiera non potremo assolutamente abbandonare la Kronos a quel punto dovremo riportarla a casa perfetto sapevo di potermi fidare di una della mia stessa specie specie? sì quelli là fuori sono quelli là fuori sono una specie e anche la peggiore che abbia mai visto però potrebbe arrivare una bella gratifica per tutti io vi invito un attimo a riflettere quello che è successo è successo per un errore non voluto ok a me dispiace per il vostro capitano ora sta iniziando a prendere più parola a me dispiace per il vostro capitano e voglio che tutti quanti torniamo a casa e ci salviamo ok io per primo mi voglio salvare le penne ho tante cose che forse che mi aspettavano a casa comunque voglio tornare sana e salva voglio finire questa missione e prendere quello che mi spetta come tutti voi andiamoci da qui però veloci e che cazzo sta succedendo lì vedete il dottor cooper che comincia a urlare si porta tutte e due le mani alla testa e proprio si mette ad urlare come un pazzo e si butta per terra si piega quasi a panino in terra c'ha la testa è in ginocchio con la testa appoggiata alla fronte per terra e inizia ad urlare come un pazzo e a tremare fortissimo che cazzo è quello che aveva preso il siero che cazzo no è il comandante è il siero è uscito qualcuno si ci sono ci sono oddio levalo lo xeromorfo lo abbiamo trovato e vedete che inizia inizia a tremare e tutto quanto molto forte e tutti quanti lo guardano vedete rid che gli punta al fucile a pompa contro fa che cazzo gli sta succedendo a quello penso sia forse i cosi che avete descritto prima della ventilazione vedete il dottor Flynn che parla fa no non hanno mai avuto questo effetto su un essere umano che cazzo ha delle convulsioni proviamo a fermarlo proviamo allora facciamo una cosa facciamo una cosa per favore sergente Reed mi porti subito al ponte B nel med lab devo prendere un siero devo provare a dargli questo siero dobbiamo calmarlo qualcuno non possiamo compromettere la missione vedete che continua ad urlare continua ad urlare e sta iniziando anche a vomitare sangue dobbiamo fare presto dobbiamo fare presto questo ci lascia le penne spara spara vedete che il sergente Reed si guarda intorno non sa più cosa fa cioè da una parte vorrebbe andare a pendere il siero da una parte tiene il il bocchettone dell'aria sopra che un riscendava la creatura e da una parte punta il fucile a lui si guarda intorno e fa prendete una decisione ma fatelo rapidamente non ci sto capendo niente quel poveraccio sta soffrendo come un cane accompagnale spara prima che si trasforma spara troppo tardi allora fate un tiro aspetta vado un attimino fate un tiro di comando chi gli sta dicendo le informa tipo chi gli dice di andare chi gli dice di rimanere capito di sparare quindi chi è Wilson è il mio ti può sparare vai io devo andare via e lo tengo sotto sottotiro io con la chiave con la chiave a chi? ah il coso a Cooper se c'è qualche problema cioè tipo si trasforma mi tiro una chiave una chiave una chiave in testa manipulation si si bello bello no no ok comunque ho fatto due successi eh cosa gli hai detto di fare? di andare al la sua gente si ma si ma di andare nel medlab ok vedi che ti ascolta e fa si 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 veloce veloce penso sia la cosa migliore da fare andiamo andiamo subito allora seguilo intanto vabbè ci si sposta nel medlab ma non ci siamo si fa tutto contemporanea vedete il il dottor flick che fa fermi 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 vengo con voi non sapete nemmeno dove si trovi il draconis vengo con voi e mi segue sottotiro invece il Cooper con la chiave inglese vedete che lui scusate che l'idea scusate è l'idea più stupida che potete fare dividerci moriremmo tutti faccio abbrattaconzerte io prima di uscire Davis occhio ovvio beh vedete che continua continua a tremare sempre più sempre più forte mentre quell'altro insomma li vedete che si stanno allontanando nei corridoi abbastanza bui leggermente più illuminati di prima vedete il dottor Cooper che sta continuando sempre più a vomitare sangue quando a un certo punto vedete che lì si sta formando del sangue dietro la nuca gli do una bo lo guardo gli altri è troppo mi sa che è troppo tardi vedete che uccidilo uccidilo ora parlo che è Lori Clayton fermi 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 che state facendo che cazzo state facendo è un membro del nostro equipaggio no dobbiamo rimetterlo nella camera dell'ipersonno subito immediatamente è troppo tardi non vorrei ma state impazzendo state cercando di uccidere il nostro ufficiale scientifico che cazzo fate Wilson mi meraviglio di lei lei è un uomo della compagnia rimettiamolo dentro la camera dell'ipersonno subito vedete che la testa gli do una mano di corsa lo prendo e insieme a lei fai un tiro no no lei non te la dà la mano ti dà la mano ti dà la spalla perché mi vergogno come un vero allora buttiamolo dentro chi è che l'aiuta? io tutti noi tre mi sa ok allora fai un tiro di strength toleso con più due perché ti aiutano due e poi si fa un tiro contrapposto guardi un attimino guardi un attimino scusa mi sono sbagliato mi ha messo due detro poi la 55 esatti non è che l'hai preso tipo ce l'hai lanciato con un dito vai ok faccio io no ho sbagliato anch'io stavo per tirarne 56 anch'io vai ok vedi che il tiro è contrapposto praticamente è una prova di forza che voi tutti insieme in tre lo prendete a forza per portarlo verso il letto dell'ipersonno quando sentite uno strappo vedete che praticamente la testa dietro lì si spacca in due e si apre e lui praticamente per un gesto ovviamente urlando ma più che altro preso più che dalla forza perché è una mezza sega di nervi vi tira una spinta e riesce a liberarsi dalla presa quindi vi tira una spinta talmente forte impossibile cioè nemmeno il sergente rid avrebbe tenuto tre uomini per quanto robusta vedete che vi tira una spinta e riesce a liberarsi vedete che si sbatte contro il muro ci sbatte la testa forte come se volesse ammazzarsi porre fine a questa sofferenza e quindi vi sta dando le spalle vedete che piano piano il suo corpo dietro si sta squarciando in due come se avessero una lampo avete presente una scena sì io lo vedo tipo un po' scosso ma che ca... tiro fuori la chiave inglese la devo fare e gli provo a dare una chiavata in testa quando ti avvicini per dare un colpo di chiave inglese fai un tiro per colpire un corpo a corpo e ora ti dico nel caso di fallimento vai quindi è un tiro fuori corpo a corpo aspetta va su combat va su combat sì con la caratteristica legata dovrebbe essere strength ok roll set di 6 faiala che è Conan oh berfade dove glielo tiri il colpo? in testa verai si sta trasformando lì ok la polverizzate allora gli arrivi da dietro gli tiri una botta talmente forte che se vede lo prendi bene nel punto giusto vedi che la testa gliela spacchi gliela frantumi completamente però quello che vai a colpire cioè li vai a distruggere la testa gli spacchi la calotta cranica vedi pezzi di osso che partano dappertutto però c'è una cosa che ti fa uno strano stranissima vedi che praticamente il collo li si afflosciano avanti il dottor cooper è morto proprio sul colpo l'è ammazzato però vedi che praticamente ti sei salvato a culo facendo un buon tiro la schiena li si squarcia completamente ed escano tre aculei lunghissimi tipo fai conto sono lunghi come un braccio questi aculei che li sfondano alla schiena e ti vengono praticamente ti sfiorano e ti strappano un pezzo di divisa se tu non fossi stato abbastanza attento ti avrebbero impalato e praticamente vedi che dal suo collo quindi dal retro del suo collo perché te lo vedi di spalle esce la testa di un'altra creatura è come se al suo interno nel corpo qualcosa forse è cresciuto e l'avesse spaccato in due dall'interno ok qualcosa che ha le dimensioni cadendo a terra praticamente cade a terra in posizione fetale qualcosa che ha le dimensioni di un bambino però bambino di 7-8 anni capito ma è che cosa ancora vivo o è morta è viva si sta muovendo perché ti è colpito la testa di cooper si sta per quello dove lo colpisci si sta muovendo si sta agitando e vedi che praticamente è che aveva fatto il tiro prima non eri te era manu era ray e davis che davis non c'è manu te riconosci che subito per il tiro che ha fatto prima che è la stessa creatura che è uscita dal condotto solo più piccolina ok forse questo è un cucciolo e quell'altro era tipo un adulto e vedi che se praticamente si sta contorcendo beh ora ovviamente si fa in contemporanea poi un'è che mi dice se fai te si muove a terra e vedi che praticamente tutto quanto cosparzo tipo di di sangue ovviamente per averlo squarciato il corpo da dentro e praticamente c'ha questa specie di bioarmatura addosso che lo vedete è una specie di carapace traslucido un po' come c'era la creatura che è passata dal condotto ok sempre un momento tipo di scatto quando oh cazzo per il fatto degli acule un altro panico tutti che schifo che schifo quindi le metto due anche a loro e gli do un altro colpo per finire anche sto coso piccino in terra allora vai per colpirlo ritira un'altra volta per colpire sempre con gli stessi dadi che c'è questa volta però con un meno uno perché ti stai cagando veramente addosso voi nel frattempo ditemi eh se fate qualcosa scappate restate lì è sicuro di poter restare in questa stanza io sto proprio se pietrificato con l'occhi spalancati e adesso sto staccato quindi fate voi te sei fermo non fai assolutamente niente no 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 io sto io sto dove ho iniziato tutto ma fermo immobile vedete che che Clayton la donna si alza quella della compagnia si alza dal letto e piano 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 si muove verso la console quella dell'ipersonno che aveva usato Cham che era che aveva dato un'occhiata ai letti si avvicina lì tipo piano piano muovendosi e lo stesso fa anche l'ufficiale che si muove dalla parte opposta della stanza rispetto a questa a questa creatura che avete ora in corpo a corpo e te va lì e lo attacchi ovviamente il colpo non va a segno però lo colpisci il colpo cioè nel senso non li fai danno però va a segno vedi che non li fai niente vedi che ha un carapace veramente una bioarmatura naturale addosso molto resistente che avvendendola così potrebbe resistere anche a colpi da fuoco cose del genere comunque non è il classico xenomorfo ora ve lo faccio vedere ok sarebbe tipo quando vedo che io lo colpisco mentre rimbalzo alla fine si praticamente ve lo allargo un po' è questo qui ok si è quello di prometheus ok e questa creatura qui ce l'avete lì nella stanza questa qui è quello di bravo mano di prometheus e e niente vedete che praticamente ti fa l'attacco ovviamente gli rimbalza addosso non gli fa niente e lui con questa piccola mano ve l'ho detta come quella di un bambino ma comunque artigliata vedi che ti ti fa un attacco e ti tira un artigliata al petto faccio anche io un tiro per colpire allora ok l'artigliata ti prende ti strappa dei vestiti che è addosso ti lascia un bello squarcio però hai avuto la prontezza di tirarti all'indietro all'ultimo momento ti lascia un bel trincio insomma sui vestiti però non ti ferisce non ti fa assolutamente nemmeno un punto ferita e vedi che piano piano sta creatura si sta alzando sta provando a mettersi in piedi alzandosi su quattro zampe dopo tutto è appena nata anche per quanto un alieno master master ora ti dico una domanda si si scusa no vedete che praticamente urla spalanca la bocca è una specie di vedete che c'ha le labbra come quella specie di squalo delle profondità c'ha la bocca praticamente che quella non c'ha due boche come il classico xenomorfo però vedete che la mascella superiore e inferiore si allungano spropositatamente fuori rispetto al muso dimmi tipo ma nella stanza ci abbiamo qualcosa da tiracci contro o proprio non ci abbiamo niente niente questa stanza qui niente non c'avete nulla ne oserà quello col fucile a pompa che avete mandato via scelta vostra io l'avevo detto scelta vostra vai dite voi la domanda posso levarmi di culo insieme a Wilson si si bravo volevo dire la stessa cosa io esco dalla porta gridandosi salvi di chi può proprio vado dritto vedete vedete Clayton che sottovoce fa allontanatevi fuori dalla stanza piano senza fare rumore veloce allontanatevi ok pian piano mi allontano cioè questa cosa sembra vederci oppure no cioè ci percepisce e basta no 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 vi vede Wilson vi vede vi sta seguendo proprio con la testa si muove sembra avere paura di voi cioè perché lo vedete per quanto aggressivo è potente che insomma c'ha una bella forza però si guarda intorno un attimino e cerca di capire la situazione prima di capire la mossa da fare e vedete che si guarda intorno ok anch'io al retro con la sempre chiamina inglese in mano si si uscite dalla stanza andate nel corridoio piano uno dopo l'altro non si sta muovendo andate ora lui non c'è più ok piano esca esca anche lei dice chiam piano 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 ok signor Jones per favore mi dia una mano a avviare la procedura si sta avvicinando fermo piano piano non si muova avviamo la procedura ok tiri quella leva laggiù perfetto quando vedete a un certo punto che fa un'azione delle più disdicevoli sulla faccia della terra vedete Clayton quella della della Wayland che gli tira un pugno per quanto sia una donna abbastanza esile però gli tira un pugno con tutta la forza dietro la nuca talmente forte che vedete perché anche non se l'aspettava Jones che con la testa sbatte sulla console e cade a terra tramortita e vedete che lei corre fuori all'esterno nel corridoio dove siete voi praticamente mette un codice che sicuramente aveva solo lei per chiudere la porta termeticamente e vedete che praticamente lascia ne posso creare dove? lascia il secondo ufficiale dentro con quella creatura e la porta è sigillata completamente se volete fare un tiro di osservare il codice ditemelo perché se no non l'avete visto vai fate un tiro di osservare penso tutti lo volevamo fare vai tiro di osservare normale no osservare non è la mia portata io sto osservando tipo il coso eh vabbè io sono ridotto bene ok niente no nessuno di voi ha visto il codice per aprire la porta comunque vedete che il secondo ufficiale corre verso la porta comincia a battere i pugni sopra fatemi uscire fatemi uscire sta perdendo un po' di sangue insomma dalla fronte dove ha sbattuto ed è lì veramente incazzato nero che la guarda schifosa l'urida puttana fatemi uscire di qui ho soltanto io i codici per attivare la Cronus fatemi uscire non possiamo lasciarlo lì dentro guardo la tizia troppo tardi se apriamo la porta siamo morti appunto se apriamo quella porta siamo morti e perché non l'ha non l'ha fatto uscire invece di chiudere la porta bando alle ciance bando alle ciance andiamo non lo so signor Wilson signor Wilson ti dice Clayton l'altro corporativo chi di voi è qualcuno che si intende di motori o meccanico o qualcosa del genere è quella che c'è proprio di come ti chiami tu ragazzina è Rai allora Rai vieni con me dobbiamo andare subito sotto al reattore che era aspetta un attimino guarda mi sembra fosse il reattore nel main reactor core o è qui dov'è nella prima è in fondo in culo al mondo ah reactor core si nel ponte B dobbiamo scendere nel ponte B velocemente andare a attivare lo stoccaggio e dobbiamo per forza congelare quella creatura dentro la stanza quella creatura dobbiamo congelarla dobbiamo prendere sotto nel ponte B col signor col dottor Flynn dobbiamo prendere il draconis 21 dobbiamo congelare questa creatura metterla dentro una delle capsule dell'ipersonno e poi riattivare i motori della cronus che ci riportino a casa la vostra ci sono delle celle di energia a bordo della vostra montero scusi come funziona il vostro reattore intanto lui che batte aprite cazzo aprite aspetta raya non gli rispondere secondo me questa nave ormai è persa abbiamo raccorto abbastanza dati e direi di tornare alla montero e tornare con più troppe perché così facciamo una brutta finaccia lei l'ha detto signor Wilson che la missione della corporazione della Wayland aiutane di riportare sulla terra al gateway la cronus e noi ci atteremo a questo piano la cronus deve tornare a terra non è più in condizione di poterlo fare non abbiamo armi siamo rimasti in quattro non abbiamo più un ufficiale perché lei giustamente l'ha chiuso con l'alieno io direi di andarcene vedete che si riavvicina a una specie anche lì di interfono come avete voi sulla montero e vedete che pigia qualcosa come per parlare ditemi voi se volete intervenire fatemelo sempre presente no? no io mi metto un attimo purtroppo guardo con uno sguardo un po' desolato il secondo ufficiale che sta lì battendo però non posso farci niente e mi metto un attimo a osservare lungo corridoi vedi che parla fa è un ordine sergente rid come siete come siete messi laggiù sotto abbiamo preso i sieri il flacone quello vedi anche te i davis no? che è gabbro siete giù un altro vi faccio fare in contemporanea ok? tornate su che ci servite subito immediatamente prima di arrivare mentre facciamo una strada per andare verso il night lab sai che avevo detto prima di passare in armeria è una cosa che riusciamo a fare o? riuscite riuscite a passare dall'armeria e praticamente il sergente rid ti dà il fucile a pompa te lo ripassa a te mentre lei ha un fucile m41a che è quello dei marine coloniali fucile impulsi impulsi sì il pulse rifle poi nel mad lab io trovo quello che mi interessa allora ora si fa anche la parte ora ci siete voi che era contemporanea intanto delle cose che sono successe su tu non avete sentito nulla ok quindi o non eravate in contatto qualcuno ha disattivato qualcosa comunque non avete sentito niente e quando arrivate lì vedete che il dottor Flynn vi dice fate attenzione a dove mettete i piedi non dovete assolutamente rompere nessuna di quelle uova che sono a terra ok fate attenzione vedi che con i piedoni che c'ha il sergente fa io vi attendo qui sulla porta e guardo se dal corridoio arriva qualcuno ah comunque me l'avevo dimenticato avete preso anche un elevatore di movimento eh lo tiene il sergente quindi per ora non ci sono bip no no siete armati e te c'è il pompa se deve cercare qualcosa Davis lo faccia velocemente ma laggiù in fondo ci sono i medkit le bende e antibiotici e quant'altro però troverà poco nel mio laboratorio faccia attenzione a non rompere niente in terra cerco negli armadini ok fammi un tiro di mobility manuver insomma quello lì quindi aspetta scusa dov'è allora apri la scheda ah mobility è quello lì mobility dovrebbe andare su agility forse sì sì 5 6 7 mica trovi bende trovi roba quello che puoi portare dietro quello che ti può mettere nelle tasche insomma della veste non ci sono anzi no guarda per il tiro che hai fatto trovi anche una borsetta a tracolla trovi una borsetta a tracolla e all'interno se te li vuoi segnare sulla scheda è meglio hai 3 medikit quindi il medikit un eco di videogiochi un prendituto che ne so ago per suture filo disinfettante e cose del genere anche antidolorifici e quindi trovi 3 kit tenuti perfettamente per suturare ferite e cose del genere più varie boccette che sono antibiotici cose comunque di seconda mano trovo anche quello che voglio trovare trovi anche quello sì trovi anche quello che vuoi trovare assolutamente sì due unità ok vedete vedi il dottor flink che dice ok io ho tutto quello che ci serviva torniamo su velocemente il dottor cooper sicuramente starà malissimo li seguo ok prendete la strada per tornare su quando praticamente arrivate a questa altezza praticamente alla stairwell qua giù mettetevi più o meno qui insomma qui accanto ci mette anche lui quando praticamente il rilevatorio di movimento del del sergente Reed inizia a suonare bi bi classico e sembra che qualcosa sia in avvicinamento vedi che lo punta davanti a voi e fa si tenga pronto teniti pronto davis che qualcosa si sta avvicinando distanza 25 metri sta per voltare all'angolo carico e tengo puntato ok distanza 20 metri quando a un certo punto illuminando con le torce vedete chiaramente che sono quelli che sembrano essere due esseri umani comunque non ci hanno a differenza dell'alieno che hai visto prima nei condotti non c'hanno niente a che vedere e non hanno nemmeno gli arti allungati come quello che avete visto all'inizio sono delle cose del genere vediamo se c'ho questo qua lo allargo voi sopra ce l'avete ancora all'alieno si sono tipo questo qui fatti così è snook è snook bravo si è brutto così lo vedete che cambiano tutto gobble la descrizione ovviamente non c'ha più sembra che i bulbi oculari siano esplosi vedi queste orbite comunque vuote occhi ciechi però sembrano vederci molto bene comunque andare sembrano quasi degli zombie e praticamente ne sono uno qui nel corridoio e visto che non ce li posso mettere comunque sono accanto si muovono accanto e stanno venendo verso di voi si muovono lentamente tipo zombie tipo zombie tipo gli zombie di The Walking Dead vengono avanti così incespicando e vedi che stanno venendo verso di voi e il sergente apre il fuoco sul primo quindi tiro dadi si è a ruota di collo sono queste le creature che dicevate vedi che nel fragore dello sparo ti dice un sì velocemente ma che senti a malapena allora sergente Reed ha ranger combat tira sette dadi roll sette di sei ok vai fai pure te tiro io si si lei attacca quello di sinistra e te il tipo quello di destra o comunque dimmi se vuoi tirare lo stesso bersaglio del sergente dimmelo si si seguo questa questa cosa è range of the combat giusto quindi due pc minchia buono allora praticamente vedi che il colpo del del fucile impulsi lo prende al petto quindi non sembrerebbe nemmeno ha voluto tirare sicuro non sembrerebbe nemmeno una ferita degna insomma per ammazzare una creatura del genere chiunque come te invece che ti riscriverebbe mirata alla testa infatti te gliela hai spappolata il tuo colpo gli ha spappolato alla testa e vedi che questa creatura si accascia cade al suolo trema un po' e poi lo vedi che nel giro di qualche secondo si ferma mentre il colpo del sergente Reed l'ha preso al petto una zona più più neutra diciamo per un bersaglio del genere meno mirata però vedi che i bossoli che te lo ricordi quelli del fucile impulsi sono a esplosione sono cariche praticamente senza bossolo per armature leggere vedi che il colpo prendendolo al petto gli apre un buco come due pugni quindi vedi che il fucile impulsi sparato su una creatura che te non lo sai comunque nei film essendo uno xenomorfo l'attutiva anche un po' l'armatura capito il carapace certo certo tirata addosso invece a un essere umano come questo qui vedi che praticamente gli sfonda il petto casca a terra e praticamente fa la stessa fine del suo compagno nel giro di qualche secondo smette di tremare e muore al suolo rilevatore di movimento nessun altro segnale possiamo procedere torniamo su dai nostri compagni noi abbiamo sentito gli spari noi su voi dal ponte di sopra si ora si torna a voi loro intanto stanno tornando avete sentito degli spari ma in lontananza comunque comunque si l'avete sentito devo andare io per farmi una dosa no 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 la fai e basta si ok cazzo mi sa che hanno trovato della resistenza anche loro giù tipo ma faccio lungo il corridoio da qui si non siamo ancora arrivati non siamo ancora arrivati mettiamoci tipo a metà strada qui sei un fottuto genio puoi ipotizzare questo dato il rumore non è molto facilmente riconoscibile ok io direi che potrebbe mai essere intanto vedete che la creatura quella dentro la stanza si mentre voi state andando via sentite le urla del del secondo ufficiale quindi lo vedete scomparire in una nube di sangue praticamente quando li si avventa addosso è quasi come una tigre una creatura famelica lo sbrana lo smembra completamente a differenza di quell'altro del primo che avete visto che non sembrava aver fatto nessun tipo di danno al capitano l'ha soltanto preso e l'ha portato via scendete che fate seguite l'indicazione del si seguiamo ok scendete andate giù e praticamente ci incontriamo al piano di sotto noi siamo qui a junction cioè l'altra squadra anche voi scendete e vi trovate scusa muovevo quello di Manu e ci troviamo qua giù siamo tutti al junction praticamente noi si scende la scaletta quando loro la stavano per salire vi vedono ovviamente fanno anche la conta dei numeri di quelli che siete e vedi che il sergente Reed si guarda intorno e fa che fino all'anno fatto il dottor Cooper il capitano Jones e il secondo ufficiale Jones il dottor Cooper si è trasformato in un in un abominio ho provato a ammazzare cioè ho provato gli ho spaccato la testa però non è morto questo coso che è uscito da dentro lui e guardate la mia la mia giacca ha provato anche a attaccarmi e abbiamo dovuto chiudere nella stanza isolarli vedete che il dottor Flynn comincia a tremare si mette una mano davanti alla faccia e fa ma allora il Draconis non funziona allora ha sbagliato tutto quanto vedi che il sergente Reed si volta e fa che cazzo hai detto li si avvicina gli da un colpo di spalla praticamente lo butta stesa a terra e gli fa che cazzo vuol dire il Draconis non funziona cosa siamo venuti a fare qua sotto invece di restare la sua a dargli una mano vedi che lui si volta e praticamente preso per la collotta l'ha rialzato da terra come un sacco di patate vedete che qualche flacone gli cade di tasca e si rompe a terra vedete che viene agitato per aria come una bamboletta e il sergente gli fa è qualcosa da dire pezzo di merda e praticamente lui pisciandosi quasi addosso svuota il sacco e vi fa presente che non è vero gliel'aveva data al Dr. Cooper il siero gliel'aveva somministrato mentre stava dormendo e non è servito a un cazzo cazzo io l'avevo detto che era meglio ucciderlo subito e che dovevamo stare uniti ora signori abbiamo un bel problema vi dice il Marine ovvero ovvero che niente funziona più né tantomeno questo si era e non possiamo assolutamente restare a bordere questa nave visto che la mia missione è ancora quella di portarvi in salvo andiamocene subito torniamo solo a Montero la vostra nave è ancora in funzione leviamo il culo andiamo via non ne voglio sapere un cazzo di questa missione non ne voglio sapere un cazzo degli operativi Davis sei con me sono con te ok se i due della compagnia faranno ovviamente cercheranno di mettere i cibassoni fra le ruote spariamoli non me ne frega un cazzo io vi riporto alla compagnia morti in un sacco va bene va bene ma il nostro capitano Miller non è stato ucciso da quella cosa cioè da come avete descritto è stato portato via sono ancora in giro forse il sergente Reed si volta e ti dice se quella creatura l'ha portato dove ha portato i resti il resto dei memmi del nostro equipaggio il tuo capitano è spacciato non possiamo più fare niente andiamoci però non siamo sicurissimi io sono sicuro di una cosa soltanto che qui vedi che ti fa vedere il caricatore ho ancora 80 colpi e te li scarico tutti su quella faccia di merda se non torniamo a bordo della Montero che facciamo ultimo invito signor Wilson faccia strada e vedi che ti punta l'arma no 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 non scherziamo sono d'accordo con voi saliamo sulla nostra bella nave però è quello col fucile il più coraggioso che deve fare strada giusto? vedi che Clayton si mette fra te il sergente Reed e fa cerchiamo di mediare non è ancora una situazione così disperata d'altronde il dottor Flynn ha avuto quello che doveva avere ha preso il draconis noi andiamo nel reattore congeliamo quella creatura di merda la congeliamo la portiamo va bene sono con voi va bene sono con voi andiamo via con la Montero non me ne frega un cazzo nemmeno a me di portare la Kronos al gateway però porteremo quella creatura ibernata dentro un letto di criostasi la porteremo a bordo della Montero e la consegneremo alla compagnia vi va bene? e avremo tutto certo vai pure a prenderla io vado no andiamo tutti insieme Reed si mette nel mezzo ti fa teni sottotiro il signor Wilson vedi che invece punta Clayton e li fa te ne rendi conto che nel giro di appena 15 15 fottuti minuti già tre membri del nostro equipaggio e del vostro ci hanno abbandonato fra un'ora qui non ci resterà niente soltanto la polvere soltanto quella camera della criostasi ci ha tenuti separati da quelle creature andiamo via e non andremo a prendere un cazzo né ad attivare i reattori né a prendere quel siero di merda che dovete prendere noi ce ne andiamo sì ma in linea teorica logica vuole che sta avvenendo un'altra nave e entro Massimo un'ora ancorerà in questa nave e io non voglio quell'equipaggio no perché traghetteremo traghetteremo la nave questa nave nell'orbita vicina alla stella in modo tale che poi possa cascarci appunto esatto esatto andiamoci dovreste entrare nel colpo dei marina io direi che volete riattivare i reattori l'unico modo per attivare i reattori è andare giù metterli in funzione e sparare questa cazzo di nave dentro una stella ma non possiamo perché se queste vengono ritrovate da altri e non abbiamo abbastanza dati per combatterle qualcuno li fa scudo a Wilson o no no qualcuno fa scudo a Wilson o no cioè io sono sempre in mezzo tra anche infatti quando devi si è appuntato il fucilero tipo allora che cazzo fai andiamoci da questa allora fa chum e il sergente fate un tiro di forza contrapposto senza nessun modificatore di forza quindi senza no scusa e combattimento combattimento fate un tiro contrapposto quindi io ho 8 eh io ho 7 vai nè ok e io si è detto 8 di 6 un attimino che guardo una cosa ma è vicino che peccato vabbè no vabbè ma è di poco comunque siamo andati in pareggio si può dire vedi che praticamente ti tira un colpo di fucile alla faccia col calcio del fucile ad impulsi te lo tira alla faccia e praticamente te soltanto all'ultimo riesci a evitare il colpo e vedi che praticamente ti passa oltre però subito dopo vedi che ti viene sul muso come a dire se te ti vuoi schierare dalla parte di questi figli di puttana per me sono un nemico ti dice a me non me ne frega un cazzo io me ne voglio andare non mi schierare dalla parte di questi figli di puttana come li chiami te sono il mio equipaggio sono i miei compagni tutti o nessuno e le cattive maniere non aiutano in questo momento sei la vergogna dei marines nessuno si lascia stai zitto gli mettono una mano gli mettono una mano davanti alla bocca stai zitto andiamoci la traineremo sta nave quella a Montero andiamo stai con la mano davanti ancora alla faccia di Wilson mi spiace Wilson hanno ragione non ha parlato ancora la mia collega vedete Clayton alza le mani a quel punto lì si cacca addosso anche lei alza le mani come in segno di resa e fa va bene va bene l'unica cosa l'unica permettetemi soltanto di andare nel ponte di comando e inviare i nostri dati che ci metteranno diverso tempo ad arrivare al gateway però permettetemi di mandare un messaggio alla compagnia solo questo due minuti e ce ne andiamo seguitemi con i fucile e puntatemi ti aspettiamo sulla Montero seguitemi datemi retta venite con me tanto la stanza di comando è qui sopra cioè siete alla porta va bene almeno questo facciamolo qualcuno vuol fare qualcosa ditelo sempre no io tipo mi sono sempre gli sguardi il sergente che guarda il sergente no li guarda tutte e due però vabbè guarda Clayton vai guarda Clayton direttamente ah ok Manu sei? no per ora non faccio niente ok allora praticamente vedete che si avvicina alla console mette il suo badge personale l'avvicina tipo una specie di chiave e dice datemi soltanto 30 secondi e invio questo messaggio che stiamo abbandonando la nave e l'abbandoniamo o la buttiamo dentro la stella la compagnia l'abbandoniamo ok l'abbandoniamo non abbiamo il giusto grado per decidere che se ne occupi quell'altra nave che sta arrivando va bene e dottor Flynn mentre manda ovviamente il messaggio vedete che scrive dottor Flynn ha i flaconi del draconis si ok almeno quello portiamoli faccio presente che stiamo portando anche i flaconi del draconis e non ce la facciamo a portare nessun organismo alieno a bordo della nave di salvataggio ma non funziona il draconis perché dobbiamo portarlo via perché comunque non possiamo tornare a casa a mani vuote se no oltre aver fatto questa missione averci speso 70 anni non ci daranno nemmeno un dollaro lei vuole tornare così io no comunque è sempre un fluido alieno incompetente idiota non ha capito che alla compagnia non gliene frega un cazzo di noi vogliamo vedere dei risultati no che siamo sacrificabili non gli entra nella zucca lasci stare 70 anni era una volta l'essere umano e ancora dopo 70 ancora così continui a fare quello che sta facendo ok perfetto vedete che si stacca la sua chiave dal terminale e con un colpo fortissimo la spacca per terra e sentite partire gli allarmi vedete che si volta con un sorriso maligno da aspetta l'abbasso no dov'è eccola via vi da noia no no allora aspetta la metto con un sorriso maligno da vera puttana vedete che si volta e fa signori quello che sentite non è l'allarme della cronus ma della montero la vostra nave sta per esplodere in 10 minuti che facciamo io c'avevo un sorrisetto tutto soddisfatto e vedete adesso mi vedi tipo sbiancato vedete che l'arma è l'intimo di disattivare ha spaccato la chiave il codice lo ho soltanto nella testa la chiave l'ho spaccata quindi te sparami e la nave esploderà che facciamo a questo punto siamo in stallo vedi che il sergente Reed non se lo fa dire due volte e vedi che praticamente tira la leva del caricatore dell'arma glielo punta alla testa e fa metti subito quel codice o tu sarai la prima a non tornare a casa sei morta troia gli dice non ti lascio uscire di qui con le tue gambe moriamo noi te ci segui disattivalo automaticamente subito vedi che lei fa mi dispiace questa non era la nostra missione e sergente Reed quando lei è partito per questa missione sapeva bene qual era il suo obiettivo vedi che lui gli importa una sega gli punta l'arma verso una gamba spara praticamente gli apre un foro nella gamba lei casca al suolo sentite il classico rumore del fucile impulsi inizia a pisciare sangue dalla gamba ma vedete che si regge con una mano alla console e fa mi può anche uccidere sergente non esiste io porterò a compimento la mia missione io non ci torno a casa da perdente come lei ha capito? io mi allontano me ne vado proprio attaccato alla parete a spalla al muro lui vedete che praticamente sergente Reed impazzisce a quel punto lì proprio lo vedete portaci via brutta puttana disattiva tutto quanto poi si volta verso di voi fa chi cazzo aveva tenuto che era il tecnico? Rai sei il tecnico? sono il meccanico ok ce la fai a disattivare l'autodistruzione della Montero da bordo della nave? penso che dovrò ritornare sulla nave per farlo si da quello che ti ricordi c'è una password i codici ce l'ha il capitano quindi puoi fare un tiro con difficoltà alzata se vuoi eh si scusa Master se ricordi mi aveva dato è il tempo reale ragazzi per parlare con Mother la posso far uscire questa tesserina può essere utile? vuoi tornare a bordo della Montero? eh beh direi ok perché da qui non sembra potersi fare comunque in tempo reale quindi mancano quant'era detto 8 minuti una cosa del genere sì dobbiamo andarci allora io ho questa tesserina che mi ha dato il capitano per parlare con Mother potrebbe esserti utile? sicuramente sarebbe più utile del nulla e allora vengo vengo con te mi dispiace la corporazione sarà quello che sa ma io ho anche il carico della Montero da proteggere e vale tanti tanti soldi il sergente Rinde vi dice passate da questa stanza qui sotto mettetevi subito le tute entrate a bordo della Montero noi vi aspettiamo qui fate velocemente al momento che avete disattivato l'autodistruzione saleremo a bordo insieme a voi perdonate ma non lei è il dottore immagino no rimanete sì il dottore il sergente rimane qui no dico vabbè lei venga viene con noi lei è il dottore non lei indicandola quella della corporazione no no quella della corporazione è ferita praticamente sta là se sta a morire ti dice se il sergente Rinde ti fa Davis vai a bordo con loro nel caso avessero bisogno come si chiama lei è fuori di testa non ti lasceremo ti puoi fidare siamo un equipaggio noi la andiamo a sbloccare più tempo qui tra giversiamo più la Montero scoppia io e perdiamo tutti i soldi perdiamo la vita e non voglio ora subentra il lato mio vigliacco ti puoi fidare di me rimani qui con la sergentona di ferro e noi andiamo a spegnere l'allarme con ok lo dico tutto con enfasi sudaticcio prima di andare mi avvicino alla corporativa e le dico si non tornerai a casa da perdente non tornerai a casa e basta e le sparo in faccia a chi? alla corporativa ok le spari in faccia non serve nemmeno fare un tiro perché sei talmente vicino a bruciapelo che non ti possa far mancare lei è ferma e immobile la colpisce in testa col fucile a pompa la testa gli esplode gli esplode praticamente vedete una chiazza di sangue che si sparge praticamente sul vetro del ponte di comando ma che cazzo questa cazzo di nave vedete il dottor flin che il dottor flin è morto dalla paura è fermo messo in terra e vedete veramente che si è pisciato addosso seduta al suolo eh rai bene ragazzi andate andiamo che qui stanno saltando i nervi direi di sì io mi avvicino un attimo al dottore mi piago sì sergente tenga l'occhio alla porta lei dottore con una mano tiene verso la porta l'elevatore con una mano ti punta sì non si preoccupi dottore mi dica mi dica gli appoggio tipo una mano sulle mani sulle spalle inizia a tremare ancora più forte la paura che l'abbia agguantato un alieno qualcosa di strano ormai ti ha perso la testa non si preoccupi non si preoccupi siamo io qui siamo qui io e il sergente guarderemo noi a lei che vuole non si preoccupi resti calmo almeno lei qui veramente stanno succedendo di tutto però respiri e ti rimetta un attimo un sesto ok voi siete pronti con le tute per passare a bordo della Montero andate nel nel tubo ombelicale allora passate tornate a bordo della Montero e mettetevi tipo qui dove ho messo mano qui all'esterno fate conto tanto per non cambia la mappa un'altra volta infatti taura si finisce mi sa che comunque serve una terza seduta ragazzi però la terza seduta veramente in un'oretta si è fatta perché si è allungata un po' il tempo tanto poi ci si riorganizza andate vai a bordo sulla Montero e vedi che Madara effettivamente attivata erano davvero gli allarmi della Montero che la Troia ha attivato e connessa agli allarmi della Kronos per farvele sentire cioè aveva voluto rendere partecipi di questa cosa perché poteva tranquillamente anche farla saltare per aria e voi boh fino al momento della botta non avesse sentito niente montate a bordo della Montero e chi è che si avvicina alla console beh il tecnico eh si no scusate nella stanza di Madara chi è che si avvicina all'autodistruzione io che ho la tesserina ok quindi fammi un tiro di Heavy Machinery con un tiro di più uno perché c'hai scusa di più due perché c'è anche la tessera mi devo usare ora puoi usare dei punti fortuna no può fare ritiro nel caso le vada male c'è solo due no no come due hai detto io c'ho zero più due che mi ha detto del tesserino no c'è 0 anche anche l'attributo sai strength Heavy Machinery passo strength adesso non basta battire gli altri 2 2 4 ce n'avevi perché non è tirato la caratteristica allora hai fatto un tiro eccezionale praticamente ti inserisci su Mada riesci ad arrivare alla sequenza di autodistruzione che recita ancora 6 minuti vabbè aspetta qui la la disattivo perché robe coglioni recita ancora 6 minuti di tempo quindi lo sai che sotto 5 non si può più disattivare quindi sei ancora in tempo per disattivarle tutto quanto però vedi che la sequenza non si inserisce cioè rimetti il codice una seconda e terza volta ma ancora una volta non si inserisce e viene fuori una scritta grossa che luccica la vedete tutti quanti con scritto dovete attivare il sistema di raffreddamento nel cor nel motore se no non potete attivare la sequenza di disinnesco dell'autodistruzione ok questo è il lavoro tuo Manu ok vai tipo va bene ci metti nemmeno 2 minuti a corsa vai nel nel reattore e fammi anche te i tiri con con più uno abbiamo di heavy machine va con lui ok heavy machine più uno se va con Manu mettiti accanto a lui andiamo tutti e tre andiamo no io per sicurezza mi sigillo dentro con mother chiudo la porta e dico se dovesse servì faccio ripartire il sistema da mother tutte e tre la sala macchina non c'è sento allora resto con il corporativo e lo tengo nella stanza allora ma noi ci sigillamo chiudiamo proprio la porta tra le mother niente non fai abbastanza in tempo a raffreddare tutto quanto il messaggio che ti metti in comunicazione glielo dici e il messaggio che arriva di là sullo schermo di mother a Wilson che siamo andati sotto i 5 minuti e il sistema di raffreddamento non è entrato in funzione quindi non è più possibile disattivare l'autodistruzione la montero esploderà sei inutile ah ricordandovelo tutti quanti e soprattutto soprattutto Manu che prende un punto panico ma non per altro perché conosce a cosa andate incontro l'esplosione di una nave cargo del tipo della montero che è come l'anostromo è un'esplosione nucleare quindi se la montero dovesse esplodere siete ancora attraccati e fermi alla cronus farete un'esplosione tipo una mini bomba atomica salterà per aria con il carico anche che era qualcosa di energetico esatto no il carico che c'avete l'helium 6 ha un valore inestimabile se tornate sulla terra con quel carico e vi pagano siete a posto per 10 anni tutti potete smettere di lavorare io dicevo che la montero bisognava salvarla fai un re-roll puoi fare un re-roll Manu però si si fallo dall'amor del dio no mettiti in altro punto quindi vai a 5 ok e e mettiti il coso il fai tira con più 5 dadi che sono cioè fai più 5 capito che ne so 3 di 6 più 5 di 6 mettici il più nel mezzo quindi c'ho 5 c'ho 4 di strength uno di heavy machinery più più 5 di 6 che sono quelli del panico e basta anche soltanto un 1 in quel lato per farti falli quindi roll 5 di 6 più 5 di 6 si esatto tutto attaccato vuole suspense suspense sto morendo dentro tutto 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 oddio ma allora nemmeno non è fatto no ci sono andato molto vicino ok praticamente riesci a raffreddarla quindi riesce a raffreddare tirando fuori tutte quante le le celle di energia riesce a raffreddare il motore il core e vedi che praticamente quello che vede Wilson di là a parte no parlatevi diglielo magari e poi ti dico Wilson mi ricevi forte e chiaro sono riuscito a raffreddare il motore sei un grande disinnesco subito l'autodistruzione vedi che l'autodistruzione quando la disinneschi si ferma si ferma tutto quanto il rumore anche finisce il countdown che avete sentito quando vedi che a un certo punto rimane fermo Madar comincia a mandare dei dati che annunciano che la sequenza di autodistruzione è stata fermata e praticamente vedi che eravate ancora tipo a 5 minuti e 30 secondi una cosa del genere quindi il problema sembra fermato quando a un certo punto si riattiva e inizia ad andare giù il countdown un'altra volta ma che diavolo gli sta prendendo a questa stupida macchina intero con Madar per sapere perché è ripartito l'autodistruzione vedi che ti risponde e ti dice sequenza di autodistruzione interrotta dal raffreddamento della nave Montero sequenza di autodistruzione riattivata con comando numero 66 della compagnia will and yutani autodistruzione attivata e in esplosione nave Montero in tempo meno 5 minuti ragazzi una sola parola corriamo sulla cronus autodistruzione autodistruzione irreversibile la nave esploderà in tempo meno 5 minuti posso attivare un deadlock automatico e far partire la nave poi lo programmo in modo tale che andiamo via poi si autosdocca e vai sì ipoteticamente lo puoi fare però scusa così perdi tempo e non ce la fai a tornare però 5 minuti di orologio stiamo a parlare devi andare sulla plancia è lontano devi salire la stare chiedevo appunto se riesco a fare questo perché se non lo faccio comunque si è morti allora fra tipo 4 minuti e mezzo esplode per arrivare alla plancia ci vorranno tipo 30 secondi quindi 4 minuti ti rimangono andando a corsa veloce ok però io e Ryan intanto ce ne andiamo sulla Cronus giusto? ve ne andate? no non lo so ditemi voi volete scendere o rimanete a bordo? io me ne torno ok perfetto vai in plancia di comando vabbè voi spostatevi sulla Cronus poi dopo vi descrivo tornate di là il ponte è sempre collegato ricordati che non avete ritratto il ponte quindi se la sposti col ponte attaccato no no infatti dicevo la dedocco cioè tolgo il docking lo posso sganciare in automatico no non lo puoi nemmeno sganciare in automatico serviva l'equipaggio fuori quindi lo strappi tutto al più poi gli ha l'ora di chiudere gli dici di chiudere il portone dentro ok e te per tornare a bordo poi però te li metti a una tuta e devi volare si ma non c'ha più aria lui perché se lo ricordo 15 minuti 15 minuti ah ok io il race sarà tenuto ah ok perdono ok vai sulla sulla console dei comandi e visto che devi dedoccare e poi cosa vuoi fare la vuoi sparare a velocità in lontananza si esatto esatto ok fammi un tiro di piloting però meno due dadi perché la manovra è delle più difficili veramente e sei attaccato con un ponte che ti tiene ancorato un'altra nave poi anche te puoi fare i tiri ovviamente quello non è un problema niente ok puoi fare un ritiro è un ritiro proviamo però non c'ho un senso allora prendi te lo metto io vai al punto intanto te fai il ritiro quindi con ah più tre dadi più tre dadi quindi tira i tuoi cinque scrivi roll 5 di 6 più 3 di 6 tutta attaccata ha fatto un uno alla fine non vale allora praticamente eh si l'uno ti distrugge tutti i sei praticamente fai un the dock direttamente della nave la spari in avanti però vedi che praticamente il portellone praticamente lo sbarbi via e quindi la monterio inizia a decomprimersi subito perché appena la strappi hai avuto talmente tanta merda che vedi metà ponte è distrutto e ti segue metà ponte è quello buono è rimasta attaccata alla cronus quindi la cronus è chiusa non è decompressa da quella metà lì potresti rientrarci però dalla parte tua il tiro è stato talmente forte che hai strappato una parte del portellone ci ha fatto una breccia inizia subito a decomprimersi vedi una ventata disumana l'ossigeno se ne va a puttane e tutta la roba che c'è dentro inizia a volare andassi a picchia verso il portellone e te se nel giro di pochi secondi non ti metti una tuta o qualcosa un elmo ovviamente ci lascia le penne la tuta ce l'avevo l'elmo vabbè non l'ho mai specificato non so se sono dietro oppure lo recupero lì lo recuperi lì un elmo lo recuperi lì e l'autodistruzione dimmi tecnicamente ci avremmo sempre il casco sotto braccio noi vabbè non è un problema comunque non è un problema ti rimetti ti rimetti il casco e e l'autodistruzione ti dice che la nave esploderà fra due minuti hai fatto i calcoli leggermente sbagliati e l'hai sparata un po' troppo veloce però hai fatto da una parte anche la giusta cosa perché se no con l'esplosione nucleare non sarebbe stata abbastanza lontana sarebbe stato troppo a tiro della Cronus quindi aspetta un attimo ok ti metti ti metti la tuta prima di mettere il casco mi faccio un'altra dose ok mancano a malapena due minuti proprio scarsi e va verso il portellone di uscita che è rotto quindi comunque mi dovrei fare una prova di di heavy machinery per aprirlo con tutta la forza della disperazione possibile beh sono straffato gli stimolanti penso che ce la farò vai tu pensi basta crederci heavy machinery con cosa difficoltà che hai detto strength si con strength cioè la caratteristica strength ah no non avevo difficoltà nel farlo no 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 ah scusa mi ricordo che hai preso orcoso tre soli si ah boia strength 2 e machine 1 ok l'uno non conta perchè soltanto sulle roll fa il 6 riesci di obona a premere una combinazione qualcosa sbarbare sto portellone vedi la chronos nel frattempo che si sta allontanando te te l'ho detto c'hai jetpack che ovviamente usandolo ti consuma autonomia quindi ce l'hai giusto per una spinta e poi arrivi laggiù a spinta quando fammi io faccio un tiro di forza te fammi un tiro invece di agire ti contrapposto tutte e due senza modificatori ok guarda una cosa un attimino fai pure il tuo tiro e poi faccio il mio ottimo ok bocca all'uvo ti dicevi fucile a pompa no eh si ok praticamente stai per uscire dal portellone quando senti qualcosa che ti agguanta dal bavero dietro praticamente dalla collotta la tipiglia dietro l'elmo con una mano abbastanza gigante la vedi bella grossa che ti prende partendo da dietro la nuca riesci a prenderti finalmente davanti e te l'ho detto il tuo elmo è talmente grande che ti ci starebbe la testa due volte e senti questa creatura che ti prende con una forza disumana fortissima ti prende ti tira l'indietro e fai un volo ti sbalza praticamente da terra e ti vola ah la nave è decompressa completamente ora completamente quindi non c'è più ha buttato fuori completamente atmosfera ha buttato fuori completamente l'ossigeno ti prende con tutta la forza possibile e immaginabile e ti sbatte contro il muro dalla parte di là e fai una botta talmente tale picchiando contro il muro che senti che il tuo jetpack inizia a mandare scintille qualcosa si è danneggiato comunque ti causa anche un punto ferita segnatelo sulla sulla scheda quello rosso accanto al verde quello rosso sull'omino segno tre o segno tre no uno uno un punto ferita che i tuoi punti ferita sono uguali al tuo livello di strength che te c'hai di forza due ok quindi c'hai aspetta ti vado a vedere la scheda ce lo metti te il punto intanto si l'ho messo sull'uno l'ho messo no ma sull'iconcina sull'iconcina del tuo personaggio quella che è sulla mappa ah aspetta aspetta eccolo qua si andiamo ok fammi vedere un attimo una cosa i tuoi punti ferita si la tua elta è due quindi praticamente ti ha fatto una ferita abbastanza grossa insomma piccata e piccata ti sei fatto male alla scheda e al petto ricadendo e vedi che davanti a te c'è questa creatura qui che ora ti faccio vedere che hai presente gli zombie che avete combattuto prima questo è decisamente più alto e lo riconosci per le sembianze che hai e tutto sembra lo stesso che avete trovato entrando nella nave all'inizio quello con le braccia allungate e tutto quanto quindi ce l'hai praticamente a poca distanza che ti sta arrivando addosso e ricreandolo qui per fartelo vedere un attimino più grande poi si chiude ragazzi eh vi tengo più di tanto è praticamente questo qui questa creatura qui vedi che a differenza di quell'alieno che ha preso il capitano dal condotto sembra una via di mezzo c'è un umano che sta diventando quello quindi anche con la testa allungata non ha artigli però insomma hai visto che ha una forza disumana ok sei ancora in possesso del tuo fucile a pompa reagisco intanto voi da dentro vedete che la Montero sta andando via ok spara ma che cazzo è succedendo cos'è? eh non lo vedete però è su ranged e agility cioè noi vediamo anche il fatto del portellone che ha disfatto sì però l'avete vista partire tutto quello che succede a bordo l'unica cosa non lo vedete è lui uscire col jetpack ok e la nave esploderà tipo fra quello che gli è successo fra un minuto e mezzo fra pochissimo però è abbastanza lontana l'avete vista insomma siamo al sicuro se non è a distanza di sicurezza comunque vi farà pochi danni giusti via insomma quantificabili ho fatto un successo ok hai fatto un successo l'hai colpito e il fucile a pompa faceva di ferite si era detto Samoriondo non l'avevamo detto mi sa aspetta te lo guardo dall'equipaggiamento regolamento a tabelle armi da fuoco armi pesanti vediamo un po' qual'era a fucile a pompa no forse era armi assalto si eccolo qui praticamente ah no taravanga ricordatelo tirai anche più due a colpire vabbè tanto tirati due dadi vai nel caso tu confermassi un critico e fa la bellezza di tre danni quindi tirati due dadi niente niente va bene comunque gli fai un colpo disumano mi sono già dimenticato vant'era tre danni tre danni insomma tre danni e vediamo un po' quanti ce ne aveva sta creatura che poi comunque devo fare un tiro sulla sua tabella allora miniscio cazzo c'ha l'armatura c'ha l'armatura e te non hai praticamente valore di penetrazione c'ha la fucile impulsi quindi gli hai fatto tre danni devo tirare roll di sei per ogni sei che mi viene ti levo un danno roll roll se detto tre sei di sei oh ho la memoria è andata stasera se ho fatto se fa tre danni mi direi tre dadi no 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 ma lui c'ha sei d'armatura quindi tiro sei di sei e per ogni si e per ogni sei ti leva un successo quindi sei ti ha levato uno e fatto due danni ok ora tiro per la tabella per vedere dove l'hai colpita e cosa gli hai fatto che è eh meno ok eccolo qui e mi sembra che devo tirare un di sei si allora roll un di sei e ho fatto tre e il tre va va qui ok ok praticamente gli fai un colpo e vedi che il colpo entra a segno quindi gli sfondi la pettorina e vedi che eh lo sbalzi insomma lo alzi da terra però comunque riesci ad agganciarsi con queste braccia lunghe eh ai corridoi stretti dalla monterio riesci a tenersi bene o male eh in piedi però vedi che il colpo eh l'ha preso bene cioè vedi che inizia a perdere sangue questo sangue di colore sul verdognolo e vedi che praticamente alcune gocce del sangue arrivano in terra toccano e iniziano subito ad evaporare a formare un piccolo buco quindi sembra che abbia del sangue comunque acido o qualcosa del genere devo fare un altro tiro acido molecolare o qualcosa del genere allora ho fatto sei vedi che subito appena gli hai sparato la sua reazione è che tipo si guarda il petto tira proprio un urlo di dolore ma più che dolore di rabbia e vedi che si piega con tutte e quattro gli arti e ti salta addosso per afferrarti riesco a schivare vuoi schivare o gli vuoi sparare ricordati che c'è una tuta addosso che ti riesco a sparargli ancora o meglio schivare è impossibile perché c'è una tuta addosso che sei tipo un terminator di Warhammer ok risparagli tempo alla distruzione un minuto quindi ho il più due si più due per il fucile a pompa ok questa volta il corpo che lo riprende un'altra volta al petto e vedi che la botta è talmente forte che lo sbalzi all'indietro col fatto che lui era anche saltato e l'hai preso talmente bene che viene sparato fuori dalla Montero sto attento eventualmente all'acido si 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 no 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 è buttato fuori quindi non c'è problema di schizia addosso ma è un acido al primo stadio non è quello dell'oxenomorfo che brucia tutto capito? riesco a prendere un'aria in corsa e saltare verso la Kronus ti alzi in piedi vedi che la Kronus è bella lontana siamo già a chilometri di distanza cioè le inizi a vedere veramente le inizi a vedere veramente piccolina fai un salto ti butti fuori all'esterno mancano esattamente 30 secondi alla distruzione al momento che salti fuori e esci dalla Kronus scusa dalla Montero vedi la Montero che proprio schizza via velocemente perché sarai già a dire poca 10-11 km di distanza quindi e la vedi ancora andare normale se la mandavi a pochi g di velocità non sarebbe bastato a salvare l'equipaggio e sei rimasto lì fermo lì fuori all'esterno e fammi un tiro di jetpack quindi per vedere se funziona il jetpack e riesce a rimetterlo in funzione fammi un tiro di Heavy Machinery con meno uno cazzo e prega la madonnina perché qua c'è bisogno di un miracolo eh già niente zero ti concedo un rilancio soltanto anche perché ve lo dico i rilanci sono soltanto uno per ogni prova ne puoi fare soltanto uno vuoi fare un rilancio? eh l'unica allora prendi un nuovo punto panico perché ogni rilancio te ne pigli uno vai a 4 quindi tira i 2 di 6 più 4 di 6 dai 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 che ci crediamo la Montero si infatti grazie vedi che la Montero sta iniziando ad esplodere nello stesso momento in cui ti attivi il jetpack e butti tutta la spinta possibile e immaginabile a costo di morire senza ossigeno di morire asfissiato però per scappare dall'esplosione nucleare e praticamente voli verso la Cronus alla velocità disumana e niente vedi che vedete tutti quanti a distanza anche te la Montero che esplode e quello che vedete voi dall'interno è questa luce accecante veramente che vi acceca per un attimo fino a poi a dissiparsi in una frazione di secondo e invece te Gabro te all'esterno vedi l'onda d'urto vedi questa esplosione disumana ovviamente non fa rumore nello spazio però vedi questa luce accecante e a un certo punto ti senti preso da qualcosa che ti dà una botta disumana e ti spinge chissà dove inizia a vedere nero perdi senso e non vedi più nulla